E' incredibile, mancano un quarto d'ora all'inizio della trasmissione e non c'è nessuno, ma neanche Daniela, cioè di Daniela praticamente ci sono rimaste le corna e la fotografia. Io veramente quest'anno ci vuole una... Boh, non lo so, non funziona, ogni settimana c'è un problema che non va. Gregorio, hai visto Daniela per caso? Ma solo questo? Cioè si è polverizzata, Daniela non c'è più, è rimasta solo la carpetta, la mettiamo qui, prendiamo le sue corna, le rimettiamo qui e magari... Io però sento un rumore strano. Non penso che sia una russa. Qualcuno che russa? Sì. Non mi dire che c'è qualcuno che dorme nello studio, cioè mancano 20 minuti e siamo ancora praticamente senza nessuno, non c'è né pubblico né ospiti e soprattutto quello che mi preoccupa è Daniela che è sempre stata puntualissima. Ma quest'anno non so quello che è successo. Sento questo rumore strano. Boh, non lo so. Do uno sguardo in giro. Eh? Daniela? Aspetta, aspetta, sta dormendo. Dani? Dani? Ah! Oddio! Che fai? Mamma mia, ti stavo sopra, cercavo di svegliarti dolcemente, ma mi hai preso un colpo. Ma che ore sono? Gregorio, vieni qua. Che ore sono? È sempre colpa di me. Mi dovevi svegliare. Cioè tu stai dormendo, fammi capire, sei qui che dormi dove c'è il pubblico. Io per non fare tardi, sono rimasta qua tutta la settimana, Ento. Colpa di Gregorio. Gregorio, te l'avevo detto. Non ti porto più, è colpa tua, basta. È sempre colpa di Gregorio. Ora che facciamo, Ento? Intanto ho visto che hai una gritta pazzesca e... E sai, io ho fatto arti marziali, da bambina. Ti ricordi che l'altra volta abbiamo fatto? Sì, mi ricordo. Ti ricordo. Mi ricordo. Stasera, forse ci serve, sai perché? Sai perché? No, perché? Perché stasera si parla di condomini e il condominio è il posto dove si litiga più facilmente, per cui, sigla. Mamma mia. Gregorio non ti porto più. La tramecina, la tramecina, la tramecina, la tramecina. La tramecina, la tramecina, la tramecina. La tramecina, la tramecina. La tramecina, la tramecina, la tramecina. Mi doveva svegliare. Una settimana dormendo sulle... Ma come ho fatto? Però vedi, mi sono mantenuta bene in questa settimana. Benissimo. Meno male, meno male. Benvenuti, ben ritrovati, benvenuti amici della tramecina. Buonasera, buonasera a tutti. La città positiva in questa trasmissione. No, lastimi. Sono cose belle, cose che funzionano. Ma stasera, probabilmente, tra lei che ha fatto arti marziali, tra me che sono... Ti ricordi? Ti ricordi? Ho fatto anch'io un po'. Stasera ci sarà un bel ring, perché stasera parleremo di condomini. Che è un argomento terribile. E quando si parla di condomini, la rissa è assicurata. Bene, prima di presentare i nostri ospiti, presentare questa puntata che parla... Questo parterre così. Questo parterre eccezionale, che parla del condominio del futuro. Perché come sarà il condominio del futuro? Lo vedremo questa sera, lo chiederemo alla nostra platea di ospiti. Io voglio ringraziare di cuore, con affetto, tutti gli amici che seguono la nostra trasmissione. La settimana scorsa, la diretta della nostra trasmissione, la terza puntata, è stata seguita. C'è stata una visualizzazione di 9500 persone. 9500 visualizzazioni durante le due ore di trasmissione. A me sembra una cosa eccezionale. Di solito noi siamo attestati durante la diretta 3000, 3005, 2005, 4000. Diciamo che era una puntata straordinaria. Era una puntata bella, però devo dire che erano tutti sintonizzati al primo momento. Per cui era come se stessero lì ad aspettare la nostra trasmissione. Questa è una bella cosa. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Partiamo con la puntata di oggi. Però non litighiamo subito. No, non litighiamo. Io non vorrei. Speriamo di non litigare, ma purtroppo quando si parla di condominio... Sì, guarda, io non voglio mai andare alle riunioni di condominio, lo sai? Ma tu non abiti in un condominio. No, però purtroppo qualche volta mi hanno fatto andare, capito? E' stato... Va bene. Ti ho portato Gregorio quando sono andato. Sempre colpa sua. E' sempre colpa di Gregorio. Allora, benvenuti. Parliamo di condominio con il dottor Stelvio Runci. Benvenuto. Buonasera, dottore. Accanto al dottore... Lui ha un'organizzazione che si chiama Condominio Amico. Amico, lo sapevo. Ne abbiamo parlato durante le scorse di anni perché è uno dei nostri sponsor. Ne parleremo molto più diffusamente oggi. Accanto al dottore c'è la signora Vilma Loforte. Buonasera. Benvenuta, signora. La signora Vilma Loforte ha grande esperienza in materia. è un ex funzionario del Ministero dell'Interno, è stata anche rappresentante sindacale e oggi gestisce, Ministero della Difesa, scusi, non dell'Interno, ex rappresentante sindacale e gestisce da diversi anni invece un'associazione di consumatori. Ha un nome lungo, ci aiuti lei, visto che è in microfonata. L'Associazione Europea Consumatori Indipendenti. Perfetto. E oltre a questo si occupa anche di caffè, di patronato, per cui è perfetta oggi. Certo. Danno un sacco di servizi ai condomini. Alla mia sinistra invece abbiamo la signora, la dottoressa Santina Costa. Buonasera Santina. Che è un amministratore di condominio. Benvenuta, buonasera. E l'avvocato invece, Andrea Caristi. Buonasera. Lui è anche legale di condominio amico. Poi vedremo quali sono le cose che gli succedono più frequentemente. Più frequentemente. Diciamo che il legale in un condominio è fondamentale. Allora, il condominio del futuro. Perché ci siamo inventati questa cosa? Perché mi è stato detto che qualcosa è cambiato. Anzi, tanto sta cambiando rispetto a quello che eravamo abituati noi a parlare di condominio. Ora lo chiederemo proprio al dottor Runci. Che cosa è cambiato? Cosa sta cambiando dalla prima alla seconda repubblica? Io sono rimasto che il condominio c'è il signore che abita al quinto piano, che è pensionato e che se passa il tempo fa le carri, ha un programma scaricato da internet. Questo succedeva però tanti anni fa, mi sembra. Ma in molti condomini ancora la gestione è molto familiare e che sono intervenute responsabilità. Adesso ne parleremo. Per cui vediamo che cosa ci aspetta per il condominio del futuro. Prego dottor Runci. Buonasera, grazie Antony di darmi questa opportunità di parlare di un argomento molto scontante quale che è il condominio a 360 gradi. La legislazione del condominio cambia nel 22 dicembre del 2012 con la legge 220 e qui c'è proprio una vera e propria riforma del condominio in cui il legislatore comincia a mettere dei paletti su come amministrare il condominio. Quindi ci sono delle responsabilità dirette dell'amministratore, le cose ne devono andare in un certo modo e non più, in modo molto superficiale, devono essere fatte in un certo modo, poiché la responsabilità è in capo, guarda caso, ai condomini. Quindi l'amministratore oggi ha un ruolo veramente fondamentale e non è più il semplice che passa per le case per riscuotere le quote condominali e pagare le quattro spesucce che si affrontano nel condominio. Oggi il condominio non è un soggetto giuridico perché la legge oggi non lo considera tale, però le responsabilità che ha l'amministratore pone il condominio oggi nelle condizioni di avere persone formate e informate, quindi devono essere formate dal punto di vista legislativo, dal punto di vista giurisprudenziale, legale, quindi dal punto di vista tecnico e dal punto di vista contabile. Quindi chiaramente è cambiata un po' tutta la fisionomia del condominio. L'amministratore è una persona che deve essere formata e che fa un corso di aggiornamento animale. Esatto, quindi esistono dei corsi per amministratore del condominio. Perfetto, infatti oggi, come diceva Anthony, non esiste più l'amministratore, la persona che abita sotto casa, che possa gestire il condominio, lo possono fare in via eccezionale, può essere fatto in un solo caso che l'amministratore abita nel luogo dove risiede, però l'amministratore che prende il condominio deve avere minimo l'istruzione secondaria, quindi deve essere almeno diplomato e deve garantirsi, diciamo, 15 ore di formazione all'anno per aggiornarsi sulle responsabilità che lui ha in capo a questo condominio. Quindi non si può fare più all'acqua di rose, ma deve essere... Ma tutto questo per fare i conteggi e per andare a dire... E non è così, non è solo questo, perché sarebbe molto semplicistico, ci sarebbero veramente... Infatti, il primo era aperto a tutti, adesso non è per tutti. Io stasera provoco, faccio battute per provocare. Non è per tutti. Anche perché ci sono arrivate nelle mail diverse domande che adesso vi faremo. Ad esempio, la prima è l'amministratore, in genere, non ha un'iniziativa personale, perché deve seguire le delibere assemblearie. La volontà dell'assemblea è normale, è rappresentante. Quindi, diciamo che può essere una brava assemblea, quindi che dà delle direttive chiare, però se l'amministratore non ha delle capacità personali e professionali, queste delibere possono andare al macero. Quindi, possono non essere eseguibili, perché chiaramente l'incapacità da parte dell'amministratore può avere difficoltà dialettiche, difficoltà comunicative con i fornitori, con le istituzioni. E quindi questo non fa altro che bloccare praticamente... E tutto questo è un danno per i condomini. Tutto è un danno per i condomini, perché sempre la responsabilità economica è sempre in capo ai condomini. Lei ci sta parlando dell'amministratore come se fosse un santo, un angelo. Eppure le nostre cronache, purtroppo, drammaticamente attuali qui a Messina, hanno portato sulla ribalta della stampa di persone poco scrupolose che si sono impadroniti di condomini. Poi magari vi chiederò se sapete qualcosa di quello che è successo in un condominio famoso in Via della Libertà. E chiaramente si verificano delle situazioni molto particolari che non c'è nessuna regolamentazione dal punto di vista legislativo. Oggi qualsiasi persona si può presentare in banca o in un ufficio postale con una delibera fasulla, si può presentare tranquillamente mettendo il nome e cognome all'agenzia delle entrate che lui è responsabile del condominio, il direttore postale gli cambia il nome del conto corrente. E questo comporta, voi capite, se è una persona che lo fa soltanto con quell'intento, svuota le casse e poi chiaramente... È un po' un sistema strano quando arrivi ad avere questi strumenti. Però a Messina si arriva anche a questo. È stato chiaro... Perché c'è un vuoto legislativo. C'è un vuoto legislativo perché la posta, diciamo, o la banca dovrebbe consegnare la... Diciamo, il passaggio di consegne dovrebbe essere alla presenza, secondo me, dei due amministratori. Non può dare una delega ad uno? Secondo me questa potrebbe essere una... Di tardi ritorniamo su questo argomento. Adesso abbiamo la signora Vilma Loforte, che, ripeto, è presente dell'Associazione Europea Consumatori Indipendenti, alla quale la prima domanda secca è che tipo di protezione voi fornite ai condomini. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per l'opportunità. Fra i vari aspetti del condominio amico, diciamo che l'Associazione Europea Consumatori Indipendenti fornisce praticamente una tutela del consumatore in generale e quindi anche del condomino, dello stesso amministratore di condominio, perché, come abbiamo appena detto, i vari problemi che si vengono a verificare in un condominio poi portano a dei contenziosi, dei litigi, delle cose. Quindi l'aspetto importante è che ci sia la possibilità poi di avere informazioni, di avere la possibilità di avere la tutela vera e propria in fronte a determinate cose che sicuramente il condomino non conosce. Per esempio, signora, quali servizi prestate ai condomini poi? E noi diciamo che sui contenziosi che nascono... E quindi, quali sono i più frequenti? Quali possono essere? I contenziosi di solito nascono tranquillini per determinate, non lo so, opere che vogliono essere realizzate da alcuni e da alcuni no. Quindi rifare le facciate, i balconi... Ultimamente anche, per esempio, i bilanci, uno paga la quota condominiale ma non sa poi di fatto, per mancanza di trasparenza, questi, diciamo... Cosa sta pagando effettivamente? I servizi che sta pagando? Comunque, e noi chiaramente siamo proprio... Organizzati. Abbiamo fatto la convenzione proprio per far sì che il condomino, telefonando il call center del condominio amico, venga messo in contatto subito perché noi iniziamo immediatamente, diciamo, la pratica e la sottoponiamo ai nostri legali per vedere se effettivamente c'è una possibilità, se c'è qualche imperfezione, se c'è... E quindi, diciamo che le tematiche sono tante. Ma è certo, se sei su un'associazione di consumatori, se mi arriva una bolletta alta del gas, probabilmente mi rivolgo a voi e voi sapete come... Certamente, certamente. Non farmi la pagare, come aiutare, capire qual è il problema. È chiaro che... Rateizzarla... Allora, sì, certo, molte volte per esasperazione o si paga, pur non dovendo pagare, oppure magari non si paga e il problema aumenta perché non pagando, chiaramente, poi ci sono delle more, delle conseguenze. Sapete come consigliare in questi problemi i consumatori? Anche andare più velocemente con le mediazioni, con le conciliazioni, dell'immediato, insomma, risolvere... Fate opera stragiudiziale e giudiziale. A risolvere, diciamo, i problemi, che alle volte sono piccoli, però per il condomino sono importanti. Perché ognuno ha un'economia diversa. E se andasse, per esempio, presso uno studio legale, chiaramente, poi c'è una spesa più... Abbiamo accennato... Forse più grossa di quella che potrebbe essere la risoluzione della bolletta. Abbiamo accennato con la signora Vilma ai bilanci, ma è possibile che il condomino ha un bilancio così importante? E allora, il bilancio io ritengo che sia un elemento oggi fondante. Chiaramente sotto gli occhi di tutti c'è crisi, diciamo, da circa vent'anni in Italia e quindi i soldi continuano sempre a essere meno. E quindi il condomino, precedentemente, non faceva caso al conguaglio, alle spese, perché c'era una sorta di economicità che, diciamo, la famiglia stava bene e quindi proprio per perdere tempo pagava senza nessun problema. Oggi la famiglia fa i conti della serva e quindi quando arriva un conguaglio che sono, magari, da preventivo devono pagare, ad esempio, 30 euro al mese di condominio e poi magari alla fine dell'anno arriva un conguaglio abbastanza alto, devono fare i conti, chiaramente, con queste somme. E quindi i bilanci oggi sono fondamentali in un condominio, in quanto è necessario che ci sia trasparenza, vericità e tutto questo, ahimè, il sistema che è in atto, il 99% degli amministratori non è in grado di fornire questa trasparenza. Ma scusi, se un bilancio è errato, chi risponde verso i terzi? L'amministratore o i condomini? I condomini. Quindi chiaramente, purtroppo succede questo. Se il commercialista dovesse sbagliare la dichiarazione dei redditi, sono io a firmarla, io mi sono affidato a un consulente che ha sbagliato, poi avrà un'assicurazione, non so come, però quello che sta dicendo lui è importante. Perché se non ti affidi una persona che sa fare i bilanci, nei guai ci va poi il condominio. E quindi proprio per questo il condominio amico, diciamo, ecco, il condominio del futuro oggi dovrebbe essere incentrato sulla revisione del bilancio. Ci devono essere professionisti perché il bilancio oggi non è fatto, è fatto oggi per la nostra maggioranza in Excel, con programmi, diciamo così, personali. Ma oggi la legge impone bilanci professionali, bilanci che guardano l'aspetto patrimoniale del condominio. Ad esempio, un bilancio certificato da un revisore contabile, che garanzie dà al condominio? Al 100%, perché il responsabile è l'amministratore, chiaramente insolito, ma voi capite che è il revisore che firma il bilancio condominiale, chiaramente davanti a un giudice è proprio lui il primo responsabile, se dovesse... Perché c'è il revisore contabile. Perché c'è il revisore contabile. Perché il revisore contabile non è la persona che, diciamo, che troviamo per strada, ma è un soggetto che è iscritto al Ministero di Giustizia, che ha sostenuto un esame particolare e quindi diventa responsabile. Per cui lui farà le verifiche di congruità delle spese. Ora, o certifica il condominio o certifica il bilancio da persone qualificate, o addirittura, ecco, questo centro servizi dà l'opportunità di revisionare i bilanci. Quindi qualsiasi condominio esterno può chiedere, chiaramente, a questo servizio la revisione del bilancio. Quindi la vecchietta di turno potrebbe essere garantita, chiaramente, della trasparenza e del conguaglio vero e trasparente. Quanta carne al fuoco che c'è con questa nuova legislazione, quante nuove opportunità, nuovi servizi. Anche nuovi lavori, però. Sono nuove professioni. Chissà quanto costo un condominio mantenere questo, mantenere quello, il revisore, che poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Lo so, io abito in una casa singola, per fortuna. Avvocato Caristi, prima di vedere il servizio esterno che ha fatto Francesca Stornante con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, una battuta con l'Avvocato Caristi. Quali sono le materie più ricorrenti in contenzioso legale? Sicuramente tutte quelle che comportino una spesa, un esborso di danaro. Quindi può essere un'ipotesi particolarmente frequente quella dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni. E lì che scatta la rissa. E lì scatta la rissa, sia nel senso di ritenerli o meno necessari, perché chiaramente molti condomini tendono ad opporsi, non volendo affrontare un esborso imprevisto, sia sotto il profilo anche della quantificazione della spesa. È anche vero che una volta che è deliberata la spesa, chi si può opporre? Se è deliberata, se l'ha semplesso... Intanto le delibere sono impugnabili, certamente hanno diritto di impugnarle gli assenti, poi sono procedure anche... Mamma mia, quante cose che bisogna avere dei consulenti, dei consulenti che aiutano in questo, perché ogni cosa c'ha dietro l'angolo la fregatura. No, ci sono delle leggi che bisogna conoscere e poter rispettare, no? Io credo che sia questo fondamentalmente. E' da dire perché più il condominio è grande e più anche i bilanci sono importanti, più è improbabile che il condomino abbia contezza e effettui una reale verifica, quindi poi nascono contestazioni anche in tempi tardivi rispetto alla dovutezza delle stesse quote ordinarie. Bene, avvocato, ritorneremo con lei tra poco. Adesso c'è pronto il servizio fatto da Francesca Stornante all'ingegner Triolo, Francesco Triolo, che è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Vediamo cosa ha da dire l'ingegner e l'Ordine degli Ingegneri sul condominio del futuro. Prego. Insieme al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, Francesco Triolo, per capire innanzitutto qual è lo stato di salute degli edifici, dei palazzi, dei condomini privati nella città di Messina. Lo stato di salute è visibile a tutti, non c'è bisogno che io da Presidente dell'Ordine degli Ingegneri vada a rappresentare quella che rappresenta la città, ma invece io sono in un'altra veste e sono nella veste di cui devo informare che abbiamo la possibilità effettivamente di cercare di rendere più bella la nostra città con tutti questi bonus che da anni abbiamo e sono stati ribattiti nella legge finanziaria 2020. Ci sono delle misure, dei bonus messi a disposizione del cittadino che servono per incentivare determinate tipologie di interventi e servono anche a pagare di meno, quindi servono per incentivare l'avvio di determinati lavori. Quali sono? Lo Stato paradossalmente ci sta venendo incontro, viene incontro al cittadino e dà la possibilità di andare a pagare di meno nelle tasse investendo sui propri fabbricati. Questi investimenti possono essere di vario tipo, possono essere a livello sismico con il sisma bonus, possono andare dell'efficientamento energetico con l'eco bonus e possono anche andare a migliorare il patrimonio edilizio con l'ultimo bonus che rappresenta il bonus delle facciate. Che significa? Significa che il cittadino al momento della dichiarazione dei redditi si troverà a pagare meno tasse se investe nel proprio fabbricato. A questo punto però l'oggetto qual è? È quello che il cittadino deve essere informato, deve conoscere non solo questi benefici apparenti sulla carta, qualcuno glieli deve spiegare e noi ingegneri abbiamo un obbligo morale nei confronti soprattutto della nostra cittadinanza, cercare di rendere più chiaro possibile i modi di intervento e quindi il nostro intento è cercare di propagandare quello che può rappresentare effettivamente un efficientamento della nostra città. Voi come ordine degli ingegneri state puntando molto sia sulla vostra formazione interna, quindi preparare le figure, gli ingegneri a quella che può essere appunto la formazione e l'informazione verso l'esterno. State dialogando con il comune perché la burocrazia è importante e state tentando anche di entrare proprio nei condomini per spiegare alla gente i grandi benefici di queste misure. Sì, è molteplice l'iniziativa che si sta cercando di fare. Innanzitutto io sto organizzando dei corsi in modo tale che i nostri tecnici anche chi non è un buon lettore della norma, perché la norma è anche abbastanza semplice, un ingegnere facilmente riesce a capire e a leggerlo però stiamo organizzando dei corsi proprio per capire la differenza fra sismo bonus, eco bonus e bonus facciate e come si interviene. Nello stesso tempo stiamo cercando di fare un'azione con i condomini, cerchiamo di entrare all'interno dei condomini per spiegare come si utilizza e al contempo abbiamo fatto un invito anche all'amministrazione comunale di rendere ancora più semplici la procedura di lavorazione. Voi pensate che si apriranno tanti cantieri. Uno dei problemi materiali che noi possiamo incontrare è nell'occupazione del suolo. L'occupazione del suolo non può comportare dei tempi abbastanza lunghi anche se la colpa di fatto non è tanto dell'amministrazione ma della burocrazia. Dobbiamo cercare di ridurla. Un'occupazione del suolo non può comportare due mesi di tempo per rilascio ma deve essere quasi immediata. Stiamo cercando. L'amministra d'eccezione ci ha chiesto una mano d'aiuto e noi gliela daremo perché ne siamo convinti. Francesca bentornata. Grazie. Mi siete mancati anche voi tantissimo però vi ho seguito ovviamente. Tra l'altro questo è anche un po' mio figlio questa trasmissione. Mi mancherebbe. Io ho detto che eravamo senza braccio. Esatto. Senza braccio destro e sinistro. E stasera abbiamo cercato di dare qualche risposta a quelle che sono come hanno detto i tecnici di questo argomento quelle che sono le tematiche che più fanno litigare nei condomini quindi tutti quelli che sono i lavori soprattutto di ristrutturazione delle facciate. Ci sono questi bonus, queste misure importanti messe a disposizione dal governo che rispetto al passato sono anche più accessibili e questo molto importante. quindi il cittadino non si deve spaventare della burocrazia, affidarsi ovviamente a un buon amministratore di condominio e sapere che ci sono delle misure importanti come il bonus sisma, il bonus facciate che consentono poi negli anni di riavere indietro in qualche modo una parte dei soldi spesi per questi lavori. Sì, però in tanti anni si portano le dichiarazioni dei redditi. Quindi non ci sono finanziamenti anticipati che però prevedevano un interburocratico molto più lungo e articolato mentre invece poi ogni anno in dichiarazione dei redditi ti ritrovi quel gruzzoletto che male non fa. Bene, abbiamo la pubblicità, ci rivediamo tra pochi minuti. E poi parliamo con Santina Costa che le voglio fare una domanda. Esattamente, a tra poco! Rebarati! La città positiva! BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram www.bnoinformatica.it Il condominio Mico è un centro servizi per amministratori condominiali e garantisce aspetti professionali. Formazione obbligatoria per legge, bilanci revisionati e certificati, organismo di mediazione per la risoluzione di controversie condominiali. Aspetti gestionali. Portale web e applicazione su telefonini, iOS e Android. Adempimenti e bonus fiscali. Call center al servizio dei condomini. Aspetti commerciali. Oggi cambia il ruolo da amministratore a manager, convenzioni con i fornitori, pubblicità su facciate, wifi, videosorveglianza e badante condominiale. Tutto questo riduce i costi per i condomini. Il condominio Mico. Tutte le informazioni al numero 090 47 69 8. Tutti possono ottenere il prestito subpegno, non solo i dipendenti ma anche chi non ha la busta paga. Mi piace dire che il prestito subpegno è un prestito salvagente perché interviene laddove esiste un'esigenza immediata di liquidità. In 10 minuti vi finanziamo, basta dare in garanzia, oro, argento, gioielli, orologi importanti. I gioielli sono tuoi e restano di tua proprietà. Li stai solo dando in custodia. Vi aspettiamo in ufficio e ricordate che Fincentrale finanzia Messina. Perchè continuare a perdere tempo? Grazie alla collaborazione con PrestaSì, il più grande mediatore in Italia, Fincentrale è il tuo unico riferimento a Messina. Qualunque sia il tuo profilo finanziario, Fincentrale e PrestaSì hanno il prestito fatto su misura per te. A Messina, un solo indirizzo per l'accessione del quinto dello stipendio o della pensione. Fincentrale. Chiara. Senza sorprese. Non perdere tempo. Chiamaci ora e trasforma la tua vetrina in una calamita per nuovi clienti. Media Spot Group Messina DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia. Una realtà innovativa per consulenza. Efficienza di servizio al cliente. Professionalità. Attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona, delle famiglie, dei professionisti e delle aziende. DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze. Auto, moto, infortunio, RC professionale, casa, vita e perché no, facendoti risparmiare. DR Broker. Via Ugo Bassi, 204 Messina. Telefono 090 651 0424. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS La città positiva. Allora Enzoni, adesso vorrei fare... Fino a ora... Non si è bisticciato nessuno. Non si è bisticciato nessuno. Ma sai perché? Perché non ci sono i condomini. Perché non è una rima di condominio. Sono i condomini che litigano, anche con l'amministratore. Benvenuti nella quarta puntata dell'altra Messina. Questa sera parliamo di una cosa che sta a cuore... A tante persone. A tantissima, al 90%. E che spaventa pure, no? Sì, quello del problema di condominio, dei condomini, delle responsabilità, delle cause, delle diatribe che ci sono tra condomini. Anche perché a volte è difficile proprio il rapporto umano tra i condomini. Non è solo un problema di leggi. Eppure è un paradosso perché abitiamo sullo stesso pianerottolo, nella stessa scala e poi ci sono veramente... Non lo so, ma funziona così. Succede a botte. Perché diciamo che noi a volte non siamo molto bravi a relazionarci fra di noi. Gli esseri umani non sono bravi in questo. Abbiamo qui Santina Costa. Ciao Santina, buonasera, benvenuta. Tu per esempio fai l'amministratrice di un condominio, giusto? E tu come ti sei trovata in questa veste? Sei anche inquilina? Sì. Inquilina e amministratrice di condominio? Sì, quindi io qui mi trovo in doppia veste, quella di amministratore e quella di condominio. Non è facile, non è per niente facile perché ovviamente io parteggio per il condominio e questo mi crea molte difficoltà. Certo che mi crea molte difficoltà perché sono il mio cuore... Cerca un doppio ruolo. Sì, certe volte cerco di imbedesimarmi nel ruolo di amministratore e non ci riesco e mi devo sforzare perché siccome io abito in questo condominio da, dico la mia età non fa niente, 53 anni, cioè da quando sono nata praticamente, quindi conosco la maggior parte dei condomini. Conoscendo la maggior parte dei condomini che ormai sono anziani, per me sono come se fossero altrettante madri e altrettanti padri che quando io prendo le quote condominiali mi portano i biscotti, mi portano... Quindi c'è un bel rapporto umano. Diciamo di sì perché mi hanno cresciuta, infatti io sono lì come amministratore per esaudire un loro desiderio. Però cosa succede? Perché mi conoscono da tanto tempo. E come amministratrice invece che cosa succede? Come amministratrice... Che si turba per esempio? Mi turba. Che cosa? Mi turba appunto quello che dicevate prima. Tu per esempio prima hai detto, io non ci vado mai alle riunioni condominiali e questo è il quale... Io non ho una casa, io ho detto che abito in una casa singola e questo non vado. Io ho sentito questo, comunque il guaio dei condomini è questo, partiamo da qua. E la prima mi metto io perché io non andavo mai alle riunioni condominiali perché ci sono sempre zuffe praticamente, verbali e quindi non si riesce mai ad arrivare ad una conclusione quando ci sono le riunioni condominiali. Quindi bisogna, l'amministratore dovrebbe essere molto preparato a gestire questo tipo di rapporti perché non si capisce nemmeno che ci sono delle spese per fare una riunione condominiale, le raccomandate da mandare. Quindi se una riunione non va in porto sono soldi sprecati e il condominio, il guaio del condominio sono anche gli sprechi. Io facendo organizzazione aziendale perché sono laureata in economia e commercio ho insegnato per vent'anni contabilità e organizzazione aziendale e mi rendo conto che gli sprechi sono una pecca che non... Che è molto diffusa. Sì, è molto diffusa nei condomini e quindi io cerco di evitare almeno gli sprechi. Ovviamente nella mia situazione, passando da condomina ad amministratore, nonostante io abbia delle basi amministrative contabili, il condominio può soffrire delle mie conoscenze. Però a livello condominiale, a parte il fatto che come dicevate prima ci sono voraggini nelle leggi condominiali, io me ne sono resa conto perché ormai è da un anno che io mi occupo di condominio. Mi ci sono ritrovata, non ti dico da un giorno all'altro, ma mi ci sono ritrovata grazie alla conoscenza col dottore Runci perché lui mi ha spinto... È stato lui il colpevole, è stato lui il colpevole, è stato lui il colpevole e mi sono ritrovata ad amministrare un condominio di 160 famiglie. Ah, è un condominio importante. Come prima esperienza, è stato... Impegnativo. È stato molto impegnativo, però conoscendo il dottore Runci e conoscendo anche la sua iniziativa con il condominio Amico, mi ha un pochettino tranquillizzata questa cosa. Perché? Perché a parte tutti i servizi che lui offre con il condominio Amico, ti dà la possibilità di gestire un condominio nel migliore dei modi, nella regola della legge e soprattutto nella trasparenza. Che è quello che un condominio deve avere, perché questo è quello che rovina i condomini. Ma il condominio non lo fa solo l'amministratore, lo fanno anche i condomini e questo io lo ripeto tutti i giorni, perché si può essere l'amministratore del più bravo al mondo, però anche i condomini dovrebbero capire determinate cose, ma non capire che si devono studiare chissà quale legge per capire come va un condominio, ma almeno avere la partecipazione e la collaborazione più che la partecipazione. Non è sempre così in tutti i condomini. No, non c'è nessun condominio, no, non è sempre così in tutti i condomini. Io è quello pure che sto facendo, questo, cercare di unire tutti i condomini. Lo so che è molto difficile, il dottore Runci mi sta guardando male, però io ci credo in questa cosa, anche perché sono persone che io conosco da un sacco di tempo e sono delle brave persone, ma purtroppo la non conoscenza della gestione condominiale li porta, e la non trasparenza, li porta ad essere sospettosi. Non tutti sono così, ci sono altri invece all'opposto, che invece sono molto presenti e molto puntigliosi. Per esempio, mia mamma, come fa tua mamma? Mia mamma, con la quale litigo spesso per questo motivo, che non è giovanissima, se li porta bene, io ho quasi 60. Tua madre, qualcuno di voi. Mia mamma è detentrice, sempre ti deleghe, le persone giovani, anziché andare alle ruine di condominio, delegano mia mamma, perché mia mamma, perché è precisa, perché ci va, perché spacca il capello in quattro, per cui... Ragazzi, giove, largo ai giovani, largo ai giovani, mamma. E' giusto comunque, hai ragione Santina, è una cosa importante. Ritorniamo un attimo al dottore Runci. Dottore Runci, è pronto? Chi è l'amministratore ideale? Io sento nello spot del condominio amico, oggi, l'amministratore manager. Quindi, gestire il condominio come un'azienda, cercare di risparmiare sulle spese, cercare addirittura di fare soldi, addirittura. E come? Questa è una cosa buona. Oggi il condominio deve essere visto nell'ottica di un'impresa, perché ho gestito sempre i condomini, quindi bilanci e tutte le quote, considerando come se fosse un volume d'affare del condominio. Pensate che ci sono condomini come quello della dottoressa Costa, con 160 condomini e ha un volume d'affare di circa 50-60 mila euro. Addirittura ci sono condomini che hanno addirittura 200-300 mila euro di incassi e quindi che comporta una certa responsabilità di queste somme incassate. Ma il manager, qual è la differenza con il vecchio e la prima repubblica? È cambiata la figura, quindi l'amministratore amministra le quote e le spese, oggi la figura si trasforma in manager. Quindi avere la capacità, uno, di dare economicità al condominio, addirittura non soltanto gli incassi con le quote condominali, ma anche incassi esterni. Come potrebbe essere per esempio, ecco nel caso che ora con questi sisma bonus, eco bonus, che si fanno queste facciate, le facciate, allora in questo caso può essere per esempio un tipo di economicità, può essere la pubblicità sulle facciate. E quindi, o addirittura può essere anche una forma, per esempio, di wifi condominiale. Oggi ci sono, è interessante perché tutte le famiglie pagano 25-30 euro al mese di wifi, quindi quando il condominio ne paga una sola e tutti hanno le chiavi per poter accedere e quindi avere un'economicità non indifferente. Avere anche la possibilità di, con delle convenzioni, con i fornitori, di abbassare la vuota condominiale. Quindi se i costi sono contenuti e sono molto più bassi, quindi il condominio amico non fa altro che dare l'opportunità di, il servizio, di pagarlo molto meno rispetto ad altri condomini che individualmente il fornitore cercherebbe molto di più. Andiamo un attimo a fare un giro tra il nostro pubblico. Vediamo qualcuno ha chiesto di parlare, c'è la dottoressa Angela Benassai. Buonasera, benvenuta. Buonasera, Angela. A fare una domanda a chi dei nostri ospiti? Vorrei fare una domanda al dottore Runci per quanto riguarda l'amministrazione di un condominio. Visto che ultimamente mi sento quasi vittima di questo condominio, in quanto in pochi mesi ho dovuto sborsare quasi 20.000 euro, di cui 4.500 ancora li devo dare. Domani mattina ho l'assegno pronto da dare. Pur non avendoli li ho dovuti trovare questi soldi e se è giusto pagare queste cifre tutte in una volta dopo anni si sveglia l'amministratore perché ha detto che sono somme del 2016 e ti fa ritrovare dopo che io sono sicura di aver pagato sempre puntualmente perché il vecchio amministratore veniva, passava ogni mese da casa e quindi era sempre ben pagato, però all'improvviso dice no, lui non ha la specifica, dice sono spese che gli ha portato il vecchio amministratore e quindi mi chiede ora gli ultimi soldi da pagare 4.500 euro o ce l'ho o non ce l'ho li devo pagare. Diversamente mi ha minacciata che mi fa un decreto ingiuntivo. Se è giusto aspettare all'ultimo momento? E' chiaro che cercare somme del 2016 è un'anomalia soltanto a cercare somme dell'anno 2016. Siamo nella chiusura del bilancio nel 2016 e chiaramente queste somme che vengono conguagliate o addirittura sono saldi precedenti che tornano sempre in vita perché il condominio se nel 2016 ho un saldo negativo non viene cancellato, viene sempre riportato anno per anno e quindi poi capitare in questo caso che magari però arrivare a una somma di 4.000 euro dal 2016 è chiaro che l'amministratore in queste condizioni deve dare chiarezza e trasparenza di quello che pago, non minacciare perché l'atteggiamento della minaccia sembra che sia un atteggiamento già di difesa da parte dell'amministratore che non ha le idee chiare a dare spiegazione sulla somma, dico o paghi oppure ti faccio il decreto ingiuntivo e quindi questo è anche nello stile dell'amministratore quindi deve avere anche comportamento, non restando che è una persona che è un mandato che dà il condominio all'amministratore quindi lo devo portare con trasparenza e con professionalità e con la dirigenza del buon padre di famiglia quindi l'amministratore precedente avrebbe dovuto, quando ha consegnato le scritture o i bilanci al nuovo amministratore avrebbe dovuto evidenziare nei vecchi bilanci questa somma che lei doveva dare ma è anche vero che l'amministratore subentrante avrebbe dovuto già metterla in guardia su questa somma che è una somma importante, non sono somme 4 mila euro, sono 4 mila euro qualche malalingua dice che gli amministratori in genere non fanno i decreti ingiuntivi per mantenersi buono il voto del condomino insomma ce ne sono di tutti i colori vuoi capire che l'assemblea ti ricordi che io non ti ho fatto il decreto ingiuntivo? Messina porta in primo ordine che l'assemblea condominiale è come se fosse un piccolo parlamento ci sono le maggioranze e le minoranze un'altra domanda dal pubblico dottor Greco come dobbiamo fare con questa mamma? beh innanzitutto la mamma sa dare a se stessa è un problema dell'amministratore in questo caso però io vorrei apportare la mia esperienza professionale quindi prima di una domanda che ho da fare forse più all'avvocato che all'amministratore nella mia qualità di lavoro insomma direttore di banca intratteniamo nella nostra filiale oltre 50 forse 60 rapporti con l'amministrazione condominiale quindi il conto corrente è diventato ormai la cartina di tornasole della buona amministrazione sia in fase di discussione che in fase di pagamenti ci sono normative antiriciclaggio addirittura sul condominio dove bisogna identificare il titolare effettivo del rapporto quindi l'amministratore ha ancora più responsabilità oltre a quelle che ne abbiamo sentite stasera ne aggiungo io qualcun'altra e ho dato perlomeno un consiglio lo do perché poi per operare correttamente nel caso di cambio di amministrazione avere presente ambedue gli amministratori e anche magari qualche condominio certo in condomini molto estesi è difficile riuscire a ottenere questo ma bisogna andare molto più piedi di piombolo i costi e i ricavi di un condominio lo fanno quasi diventare un'impresa un bilancio che è sempre più un bilancio in contabilità ordinaria tant'è vero che le banche hanno dei prodotti finanziari quali addirittura il credito da fare al condominio ovviamente con le opportune garanzie si possono agevolare quei condomini che non hanno la possibilità di pagare con puntualità oppure con correntezza la quota condominiale o anche quelle spese straordinarie ecco anche in quel caso ci sono le banche qualunque si può andare a chiedere se ci sono dei prodotti finanziari per poter sostenere il condominio e lì sorgono le obbligazioni e sorge anche la mia domanda ecco la farei all'avvocato in questo caso un condominio può fallire oggi? ecco ci sono effetti veri e propri del fallimento e chi paga questo fallimento? il condominio non ha un'autonomia patrimoniale perfetta quindi è espressione dei condomini quindi infatti sono prodotti che dovrei anche esaminare per poterle dare una risposta se sono prodotti finanziari indirizzati al condomino o al condominio qualente ma certamente non ha un'autonomia patrimoniale principalmente il rapporto è all'amministrazione con garanzie dei condominio i debiti del condominio rispondono i condomini quindi di fatto le obbligazioni si pagheranno in questo caso se c'è un'insolvenza da parte di un condomino praticamente questa insolvenza l'amministratore la deve portare in assemblea e questa insolvenza deve essere ripartita tra gli altri condomini perché il bilancio deve sempre quadrare perché se c'è un fallito un condomino fallito chiaramente quelle somme poi l'amministratore li deve gestire in un certo modo perché se non li puoi incassare perché il condomino non può più pagare la responsabilità del condominio è che quella somma che doveva pagare quel condomino deve essere ripartita con tutti gli altri ecco perché non può fallire il condominio oggi le aziende falliscono ma il condominio non può fallire e questo è uno degli argomenti più importanti perché c'è una grande attenzione verso il condominio e amministrare i condomini proprio perché per l'amministratore è un incasso certo perché da questo punto di vista non ci sono ecco è la professione del futuro ma deve essere fatta in un modo molto molto professionale e non può essere fatta così all'acqua di rose Dottor Rucci abbiamo gli ultimi due minuti di trasmissione e nel condominio del futuro parliamo anche di un'azienda che presta tantissimi servizi al condominio ci sono delle vere e proprie organizzazioni adesso sentiremo tra pochi secondi stanno facendo la telefonata sentiremo proprio degli imprenditori che si sono organizzati per offrire servizi a tutto tondo al condominio prego cicletta come anticipato abbiamo al telefono che poi è un messinese anche se so che la sua azienda è a sede a Milano la Italiana Holding parliamo con e siamo in diretta con Domenico Piccolo che è un imprenditore che ha fatto anche del condominio del futuro il suo core business è vero? assolutamente sì intanto vi ringrazio per l'invito e appunto l'azienda si chiama Italiana Holding sono originario di Mestina da 20 anni su Milano e i servizi che noi offriamo per i condomini abbiamo deciso di specializzarci in questo segmento di mercato perché oggi oggi è molto importante essere molto qualificati sull'attività che si svolgono per i condomini in quanto oggi il condominio è un'impresa tutto tondo in quanto spazia da quella che può essere la fornitura di energie elettriche e gas cosa che noi facciamo a tutto quello che poco c'è quali sono i servizi che voi offrite cioè voi fate delle convenzioni immagino con dei condomini perché offrite più di un servizio assolutamente sì noi offriamo servizi che riguardano appunto la fornitura di energie elettriche e gas con la nostra divisione che si chiama Italiana Gas and Power e poi offriamo servizi efficientemente energetico quindi delle certificazioni di agnoti energetiche adesso sta andando in voga molto quello che appunto è l'eco bonus il sisma bonus sono praticamente degli incentivi che lo Stato offre ai condomini per tutto quello che riguarda appunto soprattutto in Sicilia insomma nelle zone sistiche appunto c'è la possibilità di utilizzare l'eco bonus che consente appunto ai condomini di avere uno sgrave fiscale dell'85% e quindi di riuscire a come dire che di soluzione mi abbiamo parlato sì sì mi abbiamo parlato mi andava di sottolineare che c'è anche un mondo imprenditoriale che ruota organizzato ovviamente e che ruota intorno al mondo del condominio offerte di servizi, offerte di prodotti e la sua è un'azienda che ripeto parte a Messina immagino che lavorate non solo a Milano ma so che siete raggiungibili su internet in tutta Italia bene, grazie per l'intervento signor Piccolo, grazie grazie a voi grazie, grazie insomma il condominio è sicuro che è cambiato in questi ultimi anni come vedete ci sono anche approcci imprenditoriali sono molto interessanti perché con un solo fornitore uno riesce ad abbassare i costi e avere un solo interlocutore certo, quindi tutto più semplice bene, vogliamo concludere questa nostra trasmissione con la signora Vilma aveva qualcosa da aggiungere molto velocemente sì, volevo semplicemente dire che la problematica della signora, lei dovrebbe richiedere un rapporto dettagliato di quello che gli è stato comunicato come spesa e questa è una delle tematiche che potremmo affrontare si può rivolgere la motivazione per cui abbiamo fatto la convenzione con condominio bene, grazie signor avvocato Caristi qualcosa per chiudere se ha qualcosa da aggiungere eccole il microfono eccole il microfono e formiamo la possibilità di parlare vi ringrazio chiaramente l'argomento è pasto i problemi potrebbero essere tanti però credo abbiamo dato un piccolo grazie grazie avvocato buonasera la dottoressa io mi associo all'avvocato Caristi vi ringrazio buon lavoro allora con i suoi condomini grazie e mantenga sempre rapporti buoni come ha fatto fino ad oggi non ci riescono tutti non ci riescono ma lei li conosce sin da quando è nata è infatti questa è la differenza complimenti grazie dottor Rucci che ti diciamo un'ultima battuta ma proprio 30 secondi per chiudere questa trasmissione che voleva essere un supporto un servizio per i nostri telespettatori il condomini è cambiato attenzione a scegliere bene l'amministratore attenzione che sia formato attenzione che possa essere un manager sicuramente l'amministratore può fare tanto per la correttezza dei bilanci per l'economicità della gestione del condominio e addirittura potrebbe anche gestendo la comune azienda incassare dei soldi ripeto il tempo è stato troppo breve che i servizi che si possono offrire ai condomini sono molteplici io ne volevo citarne uno molto importante che è quello dell'app del telefono che chiaramente oggi tutti hanno un'app hanno un telefonino in mano e con un'app dedicata al mio condominio addirittura si possono pagare le quote condominiali anche se tu sei in vacanza a Charmè Sheikh quindi non c'è più un problema che l'amministratore deve andare a bussare nella porta del condomino ma con questa app vengono date le coordinate bancarie vengono sollecitate il sollecito delle somme e con quella e lo ricorda l'app che è la rata in scadenza la rata in scadenza quindi non ci sono più le lungaggini che l'amministratore può essere senza soldi in cassa in quanto questa gestione l'app lo ricorda lo ricorda è chiaro qui poi è un altro discorso quindi oggi il condominio del futuro deve essere proprio attento a tutto quello che sono le esigenze dei condomini sia dal punto di vista dell'efficacia ma anche dell'efficienza lei ha dimenticato un altro particolare i call center il call center perché io il mio amministratore non lo trovo mai e ora è staccato e ora è così e io ho problemi questo è uno dei punti di forza del condominio amico ci sono i call center in quanto se l'amministratore è un avvocato un ingegnere un geometra un commercialista che di solito sono molto impegnati il condominio amico dà a disposizione di questo amministratore la possibilità che i condomini possono chiamare per risolvere i problemi del condominio grazie a Dottore Staglio Lunci speriamo di aver fatto un servizio utile ai nostri telespettori io sono sicuro di sì io penso anche adesso nostra trasmissione l'altra messina continua con un piccolo spazio ludico c'è Danny Napoli che ci parla di coronavirus ha fatto un giro anche nei suoi nei locali cinesi insomma ovviamente la mette sul ridere per cui abbiamo subito dopo la pubblicità Danny Napoli Danny Il Show poi la macchina della verità poi il principato ama la messina segreta insomma ancora abbiamo più di un'ora da stare insieme grazie Danny Il Show l'altra messina la città positiva BNO Informatica il punto di riferimento dell'informatica messina da sempre i nostri clienti privati professionisti ed aziende si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio BNO Informatica è anche recupero dati da computer tablet e smartphone BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80 a Messina seguici anche su Facebook ed Instagram www.bnoinformatica.it Il condominio Mico è un centro servizi per amministratori condominiali e garantisce aspetti professionali formazione obbligatoria per legge bilanci revisionati e certificati organismo di mediazione per la risoluzione di controversie condominiali aspetti gestionali portale web e applicazione su telefonini iOS e Android adempimento e bonus fiscali call center al servizio dei condomini aspetti commerciali oggi cambia il ruolo da amministratore a manager convenzioni con i fornitori pubblicità su facciate wifi video sorveglianza e badante condominiale tutto questo riduce i costi per i condomini Il condominio Mico tutte le informazioni al numero 090 47 69 8 tutti possono ottenere il prestito subpegno non solo i dipendenti ma anche chi non ha la busta paga mi piace dire che il prestito subpegno è un prestito salvagente perché interviene laddove esiste un'esigenza immediata di liquidità in 10 minuti vi finanziamo basta dare in garanzia oro argento gioielli orologi importanti i gioielli sono tuoi e restano di tua proprietà li stai solo dando in custodia vi aspettiamo in ufficio e ricordate che Fincentrale finanzia Messina perché continuare a perdere tempo grazie alla collaborazione con PrestaSì il più grande mediatore in Italia Fincentrale è il tuo unico riferimento a Messina qualunque sia il tuo profilo finanziario Fincentrale e PrestaSì hanno il prestito fatto su misura per te a Messina un solo indirizzo per l'accessione del quinto dello stipendio o della pensione Fincentrale Chiara senza sorprese Mediaspot Group produce a Messina vetrine digitali maxi schermi a led insegne e totem digitali accendi la tua vetrina digitale e inizia ad attirare in maniera più efficace clienti nel tuo showroom approfitta della nostra formula noleggio by Grank a partire da 105 euro al mese tutto compreso non perdere tempo chiamaci ora e trasforma la tua vetrina in una calamita per nuovi clienti Mediaspot Group Messina DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia una realtà innovativa per consulenza efficienza di servizio al cliente professionalità attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona delle famiglie dei professionisti e delle aziende DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze auto, moto, infortunio RC professionale casa, vita e perché no facendoti risparmiare DR Broker via Ugo Bassi 204 Messina telefono 090 651 0424 Grazie a tutti l'altra messina la città positiva ehi bedazzo come siamo tutti a posto compro tutto a posto non mi lamenta a parte questa influenza ma c'è questa influenza maledetta vado non ce la faccio più sempre raffreddore cose ma che c'entra il coronavirus ma quale corona no mammo di caio ma quale coronavirus ma c'è proprio questo coronavirus no compa non se ne può più compa non si vede più in tv coronavirus giornale coronavirus sui social coronavirus in tv alla radio coronavirus basta no compa non sto dicendo che è una minchiata non sto dicendo che una minchiata anzi tutt'altro ma non sto prendendo sotto campo la cosa ma un conto è non prendere sotto campo la cosa un conto è non campare più no compa si è generato il panico la fobia la gente ce l'ha con i cinesi evita i cinesi non vanno i negozi dei cinesi il razzista perrucchi cinesi basta no no compa si sta sperando vabbè comunque lasciamo stare non ho chiamato per il coronavirus anzi per tutta bravo ci dobbiamo vedere almeno su questo siamo d'accordo sabato a casa mia tutti ci siamo tutti compare ci siamo tutti i seraton che si mangia compare compare lo faccio io in casa e come lo faccio io compare serata sushi oh pronto e cazzo che ci staccavo oh ma si stacca il telefono in faccia così alla gente ma non ho capito ma che c'entra il sushi col coronavirus ma che c'entra il sushi lo faccio in casa io e poi il sushi è giapponese che c'entra con la c... sì l'ho capito bisogna evitare qualunque cosa che abbiamo a che fare ma che c'entra con il sushi che faccio io ma che vuol dire da quale telefono gli sto chiamando ma che te ne frega da quale telefono gli sto chiamando huawei pronto ma sta c... la c... la città positiva che vi devo dire che vi devo dire è arrivato il momento più divertente della trasmissione lasciatomelo dire la macchina della verità chi sarà oggi la vittima di un giornalista mascarato staremo a vedere sono due tre settimane che siamo sul consiglio comunale di messina e ci restiamo ci restiamo pronti perché tra un po' si vola con chi? Salvatore Sorbello benvenuto grazie a tutti buonasera a voi si vola si vola si vola accendiamo il si vola Salvatore Sorbello ha cambiato diversi schieramenti in questi pochi mesi devo dire è stato un po' non birichino ha cambiato idea è partito con Bramanti poi è andato nel partito più frequentato che quello del gruppo misto poi ha fatto a sterzato verso Luigi Genovese però solo i cretini come dice il sindaco non cambio l'idea per cui ha cambiato tre volte allora io devo dire che su questo mi ero già espresso diverse volte lo sappiamo ma io devo pungere in qualche modo va bene sostanzialmente sono stato il primo ad aprire il gruppo misto transitando a 72 ore o 74 ore dall'elezione devo dire che sono rimasto sempre vicino al professore Bramanti anche al ballottaggio quando invece altri erano già passati in segreteria dal nostro attuale sindaco e gli sono stato sempre vicino ma chiaramente c'erano come abbiamo già spiegato abbiamo avuto modo di dire delle incomprensioni delle compatibilità anche sulle scelte future perché dovevamo rimanere in lista civica oppure aggregarci ad un partito io ho preferito andare al misto più contosto che la Lega e poi mi sono trovato bene con Luigi Genovese e solo con lui siamo una grande famiglia una grande squadra quindi l'idea è sempre quella del centro-destra lei è avvocato conosce le regole del nostro gioco sono un paio di settimane che la invitiamo e finalmente siamo riusciti ad averlo mi scuso per l'altro siccome vola, vola spesso, vola allo stadio, vola in consiglio, vola ovunque e oggi finalmente siamo riusciti a beccarlo abbiamo un giornalista che è pronto, che cercherà di metterla in difficoltà gli amici di Tempo Stretto sono sintonizzati e tra otto minuti diranno vero o falso che c'è Raffaella? posso continuare? benissimo, e allora il nostro giornalista è pronto lei è pronto si vuole aspetti che le connettiamo anche il cuore adesso si collega il cuore vedo che è un po' nervoso, no? ma è un po' teso un po' teso, vediamo che succede infatti guardi il cuore come aumenta non è che a lei succede qualcosa Sorbello non è che invece che si vola si muore, no? ascolti, si possono togliere le mani? no, no, perché è collegata al cuore ma va sempre più veloce lei è 300 pronto? Sorbello? è vivo? no un applauso e incoraggiamento guardate il nostro pubblico però lei così mi costringe a togliere le mani da qua il religioso silenzio il nostro pubblico lo ha inquadrato ogni tanto è sempre colpa di Gregorio comunque, sempre colpa di Gregorio voglio fare complimenti per il pubblico devo dire sono tutti dei volti amici il fiorello sono io, non lei no, però vedo dei volti amici ora non si vola più ora c'è il giornalista pronto 3, 2, 1 prima domanda prego, musica buonasera consigliere visto che la mia fama di crudeltà mi precede comincio subito con una domanda abbastanza cattiva oggi mi è stato mandato uno screenshot di un messaggio che lei avrebbe mandato e sottolineo il condizionale ci mancherebbe a Cateno De Luca proprio pochi giorni prima delle elezioni questo messaggio dice così aspetti che lo leggo ciao Supremo qui tutto sotto controllo tranquillo peraltro i tuoi assessori sono molto più simpatici la Musolino fra tutti ti voglio bene bacetto finale è suo o non è suo questo messaggio Sorbello? allora non ho capito è uno screenshot di un messaggio privato Whatsapp che lei avrebbe mandato al sindaco? ma guardi mi pare veramente difficile che il sindaco abbia potuto diffondere un mio messaggio privato ma lei non è tanto non è detto che sia stato il sindaco no siccome io non mi ricordo mai di quello che scrivo ma neanche di 5 minuti fa quindi suppongo che non sia possibile una cosa del genere perché su questo penso che è Cateno dico il Cateno in quel caso visto che siamo anche amici non penso che diffonda messaggi privati questo non l'ha mai fatto andiamo con la seconda domanda seconda domanda è proprio restando in tema dei suoi rapporti con De Luca sono sempre un po' altalenanti si fa fotografare abbracciato al sindaco mangiate dolcetti insieme a mezzanotte e poi però lo attacca non c'è un comportamento un po' schizofrenico in questo? oppure fa parte di una precisa strategia politica? no assolutamente fa bene a chiedermelo perché molti si chiedono appunto la stessa cosa l'amicizia è una cosa l'attività politica e l'azione politica a volte all'interesse della città è un altro io penso che vanno bene gli arancini i cornetti anche perché si dico si vede che a me vanno bene ma voglio dire che è opportuno che quando si pensa che l'azione politica non sia sulla sulla corretta via insomma è giusto che qualcuno glielo dica perché per fare il bene per fare il bene se tu vuoi bene a qualcuno vuoi il bene della città è giusto non abbassare sempre la testa e dire sempre sì solo per farsi diciamo no no ma non mi riferivo a questo il discorso è che lei spesso usa dei toni molto coloriti quando attacca il sindaco allora mi sembrava che fosse un po' schizofrenico mangiarci i dolcetti o gli arancini come dice lei insieme e poi non usare toni urbani in consiglio quando magari lei pensa di dover dimostrare qualche cosa no 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 guardi io obiettivamente dico che i toni che ho sempre usato non sono mai stati diciamo oltre quelle che sono le normali regole beh insomma io ho seguito diverse dirette ma sul rispetto io non ho mai mancato di rispetto al sindaco semmai lui lo ha fatto con i consiglieri e il consigliere che diciamo ha ricevuto un insulto da parte del sindaco o una minaccia di dimissioni se non mi puoi di questo ha tutto il diritto di difendersi e di dire guardi sindaco lei sta sbagliando si può dire sindaco stai sbagliando non è impietato questo sicuramente io mi riferivo ai modi all'apparente contraddizione tra i dolci e gli mangiati insieme e gli attacchi in consiglio ma i dolci sono avvenuti i dolci intanto parliamo degli arancinetti quelli che erano rimasti durante una manifestazione per la presentazione di un lavoro di un libro fatto dal grande Alessandro Fumia e devo dire che in quell'occasione siccome il sindaco non venne da noi alla presentazione di quel lavoro che aveva fatto sul quadro di Luca Giordano non so se vi ricordate che poi riuscirono a togliere dall'aula in maniera diciamo poco carina ma devo dire che allora proprio per siccome lui non venne diciamo alla presentazione presso il saluto delle bandiere pensammo che era doveroso da parte nostra andare noi da lui perché se Maometto non va alla montagna sono bello risposte un po' più più corte più corte lei ha riconosciuto la tarantola o ancora no? ancora ci credo di aver capito forse qualche altra domanda diciamolo 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 vediamo se l'abbiamo riconosciuta credo di aver capito dalla sì soprattutto dalla premessa che ha fatto chi è? Elisabetta Raffa si vola Elisabetta Raffa si accomodi benvenuta riconosciuta al volo devo salzare ancora non è finita ancora mi deve mordere non è detto che lei torna a casa vivo stasera non è detto lei ha firmato la liberatoria per cui continuiamo abbiamo solo tre minuti se possibile quattro domande veloci risposte velocissime come dicono i 5 stelle circoncili voliamo come ha ricordato poco fa Anthony lei è stato il protagonista del più veloce salto della quaglia che si ricordi dopo le elezioni cioè dopo due o tre giorni subito al gruppo misto poi adesso è con Genovese il fatto che lei pochi giorni fa abbia pubblicato un post su facebook dicendo mentre era sulla Caronte siamo sulla nostra nave cioè lei sente sua la nave della Caronte in quanto Genovese è il maggior azionista ma guardi io sono abituato a dire che quando siamo in una famiglia in una squadra tutto nostro passi passi tutto mio tutto mio Genovese è d'accordo sì no non credo proprio Genovese con un 360% del bambetto è d'accordo no no guardi io penso soltanto che lei si sbaglia quando dice un consigliere comunale ha fatto il salto della quaglia anche perché a me tutto mi si può dire ma sono rimasto coerente fino in fondo col centrodestra essendo rimasto nel dopo due giorni è andato al gruppo misto scusi però qua non è che poi se salto io non la sedia allora scusi io sono rimasto coerente al centrodestra nella coalizione che mi ha eletto e con i cittadini che mi hanno eletto ovviamente a favore di tutta la città laddove la maggioranza in questo momento sta con il filo che lo ha detto anche il sorbello che la vedo male mi sa che non siamo d'accordo posso raccontare un aneddoto Elisabetta Raffa ecco lei che mi buttò fuori dal consiglio perché non sapeva che fosse consigliere comunale eletto quel giorno no lei si sbaglia perché non c'era neanche alla proclamazione allora qualcosa si confonde non ci sono mai stata c'era lei che controllava l'aula che diceva chi doveva entrare dentro e chi doveva entrare fuori è stato veramente un impatto lei si confonde perché io ripetisco che non c'era le sono stato simpatiche sin dal primo momento andiamo con le domande ultime due domande dai sì allora ho letto fra i suoi post l'ho trascritto appunto perché non potevo citarlo a memoria prego perché un po' di potere non mi faccia montare la testa Giulia Andreotti quindi secondo lei Giulia Andreotti sì mi faccio finire cortesamente prego quindi secondo lei si fra l'altro ha pubblicato una foto di Giulia Andreotti che è agghiacciante perché Andreotti da giovane è serissima quindi uno la vede questa foto e fa un salto indietro dicevo lei ritiene che il consigliere comunale abbia un po' di potere oppure era un discorso in generale che le stava facendo rispetto all'uso del potere da parte di un uomo politico beh un consigliere comunale è chiaro che ha un minimo di potere è l'animale più stupido nel panorama di tutto l'arco costituzionale delle cariche istituzionali perché è quello che praticamente si assume la responsabilità e vota rispondendo sia sotto il profilo personale che patrimoniale e lo fa veramente per veramente un'indennità non è neanche un'indennità di presenza quindi per un minimo laddove invece chi leggifera diciamo che ha un rischio molto minore e guadagna molto di più quindi io credo che io l'ho detto in prospettiva futura perché se faccio il consigliere comunale lo faccio per la città è chiaro che un giorno mi aspetto di poter anch'io visto che ho affrontato nel corso della mia vita degli studi giurici di poter leggiferare magari appunto dando un contributo maggiore rispetto a quello che stanno dando adesso se dovesse uscire vivo stasera perché io per esempio la sua storia finisce qui beh chiaro eventualmente vi vencerò nel testamento e scriverò subito delle memorie prima di uscire da qui ultima domanda e ultima risposta visto che siamo fuori col tempo ultima domanda ho dato un'occhiata alle interrogazioni che le ha presentato mi sembra che lei ha anche dei post suoi che vedo lei è molto attivo su facebook e vedo che lei si preoccupa molto non so di dossi di griglia oggi ha pubblicato qualche cosa dopo la caduta di quella persona dentro il tombino ma lei non pensa che questi siano più problemi da consigliere di quartiere piuttosto che da consigliere comunale assolutamente no anzi spadiamo anche questo mito il consigliere comunale ha il dovere il diritto più che altro l'obbligo di occuparsi da Altolia sino ad Ortoliuzzo delle questioni riguardo la città sembra per quanto riguarda la borghesia messinese è squalificante doversi occupare di lampadine di fogne e di quant'altro purtroppo siccome le emergenze in questa città sono parecchie perché bisogna dire la verità i comuni stanno soffrendo molto anche sui servizi essenziali che sono proprio questi e quindi il consigliere comunale come me molto attivo sui social che fa due o tre post che fa delle dirette diciamo che dà una spinta maggiore purtroppo dico alla risoluzione di questi problemi poco fa ho fatto inviare grazie al salvo buccio dell'AMAM 5 mila litri d'acqua a Montemiselli perché sono senza acqua da ieri prima i disabili poi gli anziani e queste cose le hanno chieste a me e gli stessi consigliere di quartiere dovrebbe essere normale che io pensavo che Andrea Argento fosse il più loquace mi sa che ne abbiamo beccato una cosa ce la battiamo ce la giudiamo è stato molto loquace Daniela raggiungici raggiungo non si menti grazie Raffa direttrice dei Sicilia direttore dei Sicilians di Sicilians che è un giornale online e la sua terza macchina della verità qui da noi in questi tre anni chi sono state le altre due vittime delle sue domande dunque Matilde Siracusano se non ricordo male e Giacomo Guglielmo ah Giacomo Guglielmo del Siponte bene Raffaella cosa dice il popolo di Facebook le risposte di Sorbello io comincio a bruciarlo non so mai no no quindi ha detto la verità perché loro stesso una scossetta si vola grazie si vola si vola si vola ha detto la verità però noi a Sorbello non possiamo lasciarlo andare così e quindi magari una botticella una scossetta qualcosina per forza un presente due scossetta un attentato un attentato un attentato un attentato come stai? benissimo meglio di prima lei può posso liberarmi? che si si vola si vola si vola si vola alzali che è meglio un piccolo presente con la mappa antica della città di Messina di Sear Selezione Argenti uno per Isabetta Raffa e uno per il consigliere Salvatore Sorbello consigliere Salvatore Sorbello grazie simpaticamente al nostro gioco grazie per essere venuto buon lavoro in consiglio non so come vuole dire il microfono o se la potrebbe prendere la scossa bene grazie adesso linea di nuovo alla regia e ritorniamo tra pochissimi con Natale 1 ok a tra poco ciao buonasera buonasera grazie la città positiva BNO Informatica il punto di riferimento dell'informatica Messina da sempre i nostri clienti privati professionisti ed aziende si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio BNO Informatica e anche recupero dati da computer tablet e smartphone BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80 Messina seguici anche su facebook ed instagram www.bnoinformatica.it il condominio Mico è un centro servizi per amministratori condominiali e garantisce aspetti professionali formazione obbligatoria per legge bilanci revisionati e certificati organismo di mediazione per la risoluzione di controverse condominiali aspetti gestionali portale web e applicazione su telefonini iOS e Android adempimento e bonus fiscali call center al servizio dei condomini aspetti commerciali oggi cambia il ruolo da amministratore a manager convenzioni con i fornitori pubblicità su facciate wifi video sorveglianza e badante condominiale tutto questo riduce i costi per i condomini il condominio Mico tutte le informazioni al numero 090 47 69 8 tutti possono ottenere il prestito subpegno non solo i dipendenti ma anche chi non ha la busta paga mi piace dire che il prestito subpegno è un prestito salvagente perché interviene laddove esiste un'esigenza immediata di liquidità in 10 minuti vi finanziamo basta dare in garanzia oro argento gioielli orologi importanti i gioielli sono tuoi e restano di tua proprietà li stai solo dando in custodia vi aspettiamo in ufficio e ricordate che Fincentrale finanzia Messina perché continuare a perdere tempo grazie alla collaborazione con PrestaSì il più grande mediatore in Italia Fincentrale è il tuo unico riferimento a Messina qualunque sia il tuo profilo finanziario Fincentrale e PrestaSì hanno il prestito fatto su misura per te a Messina un solo indirizzo per l'accessione del quinto dello stipendio o della pensione Fincentrale chiara senza sorprese Mediaspot Group produce a Messina vetrine digitali maxi schermi a led insegne e totem digitali accendi la tua vetrina digitale e inizia ad attirare in maniera più efficace clienti nel tuo showroom approfitta della nostra formula noleggio by Grank a partire da 105 euro al mese tutto compreso non perdere tempo chiamaci ora e trasforma la tua vetrina in una calamita per nuovi clienti Mediaspot Group Messina DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia una realtà innovativa per consulenza efficienza di servizio al cliente professionalità attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona delle famiglie dei professionisti e delle aziende DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze auto, moto, infortunio RC professionale casa, vita e perché no facendoti risparmiare DR Broker via Ugo Bassi 204 Messina telefono 090 651 04 24 23 25 21 21 22 24 23 La città positiva Abbattiamogliele 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 Ma per più di un motivo Innanzitutto Per due Lo ringraziamo ancora una volta E gli chiediamo di portare i nostri saluti Sia al Presidente che al Direttore Dell'Istituto Colle Reale Dove noi siamo stati ospiti per due anni E siamo stati benissimo Presso l'auditorium Dell'Istituto Colle Reale Poi abbattiamo le mani per tanti altri motivi Per motivi professionali Per motivi passionali Perché la nostra nasce come una passione Con Natale ci conosciamo Dall'86 Momenti in cui io parto militare E Natale Munò Entra al mio posto A Radio Messina Lo Special 1986 E' entrato Si è sparato i miei super pomeriggi La classifica Ho preso tutto Tutto quello che c'era da prendere Negli anni 80 si faceva botte per fare radio Immagino E Natale Natale era d'antenna dello stretto Se non ricordo male Per cui Si è liberato a sto posto militare E venne a Messina Uno Special dove poi rimase fino alla fine Praticamente Io ho 25 anni di radio Lui ne ha 40 mi sa Eh sì più o meno Perché lui ha continuato Lui ha continuato Io ho finito nel 2000 E lui invece continua tuttora Con Radio Amore Continua Salutiamo gli amici di Radio Amore Dove c'è Antonio Loggiudice Tutti Tutti gli anziani Tutti gli anziani Anche Carla Luvarà Anche Carla Salutiamo tutti quanti E poi devo dire che Natale Ha raccolto una grande eredità Quella di Paolo Devo dirlo Tu non lo dici però lo dico io Paolo Miceli Che è scomparso lo scorso anno Che era la voce per eccellenza Nella radio messinese Lui fa radio come i tantissimi altri Però è la voce di tantissimi spot pubblicitari È la voce dello stadio Abbiamo delle fotografie Eccolo qui Eccolo qui Natale Allo stadio Insomma Qualche capello Più c'è che Bianco in meno E la voce perché? Perché lui canta Da una ventina d'anni Hai iniziato col piano bar In modo un po' Ma ora è diventata Una vera e propria professione Ora parliamo di Di uno spettacolo Che ci sarà a marzo E scusami se non ho permesso Di presentarti come Scusa The Voice Oh grazie 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 Ti piace Ti basta Ti basta Grazie Grazie È una eredità molto grande Infatti Molto grande Perché l'abbiamo sempre Gli data a Paolo Miceli Oggi mi pregio di dire Che The Voice Per tanti motivi Sei anche tu Grazie Non ultimi quelli che hai avuto Ecco parlaci tu insomma Concorsi nazionali Abbiamo delle fotografie Sì Devo dire che nell'ultimo periodo Sono venute molte soddisfazioni Soprattutto Da qualche anno Dal 2016 Dove per caso Ho scoperto questo concorso Al quale io Non volevo neanche partecipare Perché poi insomma Ho visto che erano Era un concorso Over 50 Però era un concorso Importante Nel senso che C'erano molte persone Proprio del campo Italia in canto Che è un concorso Nazionale Quindi c'è una giuria Una giuria fatta Per esempio C'era un anno Orietta Berti Fausto Leali Professionisti di grande livello Silvia Mezzanotte La Bonaccorti Quindi insomma È una regia Con dei giornalisti Della carta stampata Che insomma Si occupano di musica Il primo anno Era il 2016 Io proprio scopri Questo concorso E mi iscrivessi Insomma per partecipare Una volta lì Ho fatto l'audizione a Catania Poi sono passato Alle semifinali a Roma A Roma Ho visto veramente Dei mostri sacri Ho detto Io devo andare Con tutto Anche perché Penso che c'era Gente che veramente Faceva Non dico questo di mestiere Però chi cantava Insomma Le corali Chi cantava Nei teatri Che aveva fatto Quindi io Insomma Venivo dal piano bar Non avevo fatto niente Però quell'anno Invece ho vinto Hai vinto Con una canzone Anche difficile da cantare Quella del volo Del volo Una canzone Estremamente impegnata Poi rivediamo Per qualche secondo Proprio la premiazione Adesso Antonio La farà vedere In post produzione Il momento in cui Vince questa Eccola qui Questa speciale Manifestazione E questa è Un primo Una prima medaglia Sì Poi invece Cos'è successo Poi sono riproposto Di nuovo Però questa volta In coppia Ma la cosa strana È che io ero in coppia Con una signora di Parma Quindi lei Io e lei Provavamo a distanza Ma come vi siete incontrate Ci siamo incontrate Alla Lei era di Parma Io Quindi insomma Mi sono portato Cantavate al telefono Mi sono portato La parmigiana Infatti dicevo Una gallina parmigiana Mi sono portato La parmigiana E abbiamo vinto Con Vivo per lei Con un'altra volta Ah bravissimi Ora invece Sei qui stasera Perché io L'altra notte Guardando qualche post Su facebook Ho visto questa locandina Che adesso Antonio Ci farà vedere E ho visto questo spettacolo Del quale tu mi hai parlato Tempo fa E ho visto Che invece È imminente Perché Sabato 14 marzo Al Cineteatro Savio C'è questa serata Dedicata Al grande Massimo Ranieri Che è un altro Dei miei Insomma idoli Perché Io ho due idoli Italiano Massimo Ranieri E lo straniero Ed Voice Quello reale Quello vero Frenzinata Siccome è stato sempre Un mio pallino Io ho sempre adorato Massimo Ranieri Perché per me È il più completo In assoluto Balla, canta, recita Fa qualsiasi Presenta Fa qualsiasi cosa Recita il teatro In maniera eccellente Ed è sempre stata La mia passione Cioè Soprattutto anche un sogno Quello di poter cantare Le sue canzoni di un palco Un programma E soprattutto Non un programma Una serata Una serata tutta mia Ah bello Negli anni ho sempre rimandato Perché per impossibilità Perché insomma Non era il caso Disponibilità Insomma Costi Non è facile Non è facile Certo Insomma quest'anno ho detto Basta Hai coronato questo sogno Mi sono deciso E grazie anche appunto Ai miei amici A qualche sponsor A qualche amico Soprattutto Sono riuscito anche A trovare una band Importante Con dei ragazzi Che saluto Li voglio anche nominare Sono Gli arrangiamenti A parte Insomma Di tutto quello Che vedrete Sentirete Sono di Salvatore Che è un musicista Di Barcellona Poi abbiamo Al basso Giovanni Fleri Alla chitarra Francesco Pagano All'altra tastiera Tu lo conosci Francesco Bonaccorso E poi alla batteria Orazio Musarra Però poi ci sono anche Delle voci Che sono quelle di Rita Che tu conosci Che mia moglie Rita Bombaci Poi c'è Noemi Filippini E poi c'è anche La coreografia Perché avremo dei balli Di Rossella Filloramo Che partecipa a lei Mi fa da coreografia Più gli abiti I costumi di Elvira Popolo Insomma Sarà uno spettacolo Una notte Che diventa poesia Grazie alle interpretazioni Di canzoni Quando andiamo Noi andiamo Ci invidi Natale In prima pila Massimo Ranieri Cantato da Natale Munao E' una bella serata Una festa di musica italiana Sanremo Ce l'abbiamo alle spalle Già da un mese La Sanremo Poi ti devo dire una cosa Che mi dici Non mi dici Che vai a Sanremo Perché veramente Sarei felicissimo Sì vado a Sanremo Ma non al festival Ma in Gita No Già ci sono stato Casino No No Già ne basta Ne faccio tanti di casino No A proposito di Italia in Canto Quest'anno c'è stata Una selezione Però loro quest'anno Hanno fatto proprio Una cernita Hanno fatto Ci sono stati più o meno 2000 Andrai all'Ariston Bravo Benissimo Questa è una notizia Sì perché quest'anno Italia in Canto Si svolgerà sempre Questa volta Con un'altra grande orchestra Sarà ancora più grande Diretta dal maestro Gaetano Raiola E si farà All'Ariston di Sanremo Sarà il 16 maggio Bravo Complimenti Natale Grazie Porterà il nome di Messina Anche sul palco Ti canterò una canzone Di Alberto Urso Ah Tutto Messina Tutto Messina Accanto a te Accanto a te Benissimo Questo succederà a maggio Il 16 maggio 16 maggio 14 marzo Andiamo al Sabio 14 marzo Serata Dedicata a Massimo Al Sabio A Messina Poi andiamo tutti all'Ariston Lo ascoltiamo Assolutamente Antony mi compri il biglietto tu Assolutamente sì Grazie Gentile Natale Dimmi C'è altro da aggiungere? No io appunto Abbiamo Insomma Sotto tutti i punti di vista Dalla radio Allo stadio Agli spot Lui è la voce degli spot Insieme ad Antonella Romeo Siete le voci più Più note Degli spot Video Pubblicitari Realizzati a Messina Ma da 40 anni La sua voce E tutti gli spot E devo dire Mi diceva prima Che in questo Space Studio Tanti anni fa Lui Fece la sua prima Prima telemedica L'ho fatta qua L'ho fatta qua Non mi ricordo Non lo sappiamo Non mi ricordo cosa Però è stata la prima In assoluto fatta qua Natale lavora All'istituto col reale Però È un artista Fa anche questa Mi diverto La sua voce Mi diverto Ecco perché lo abbiamo Intitolato The Voice Grazie Allora in bocca al lupo Grazie per essere Grazie davvero Grazie per essere Grazie a voi Per avermi invitato Ci vediamo il 14 marzo Al stadio Alle ore 21 e 30 In questa grande serata Questa notte Diventa poesia Tributo A Massimo Ranieri Grazie Grazie Natale Grazie La città positiva Buonasera Buonasera a tutti Quarta puntata di Messina Segreta La ricerca della Messina sconosciuta Dove andiamo stasera? Vediamo dove andiamo Vediamo subito la prima immagine E così ci rendiamo conto E ma Un po' Troppo renderci conto Io non so quanti di voi Sono in grado di riconoscere Questa bellissima vallata Ebbè qua siamo nelle alture del torrente Trapani Questa è la bella vallata E là sopra c'è il santuario Che è anche un eremo Di Santa Maria di Trapani Eccolo qua Lo vediamo in primo piano E' una bellissima vallata Dove il tempo si è fermato E' una collina ancora intatta Immutata Non assaltata dal degrado E soprattutto dagli insediamenti edilizzi Abbiamo visto la chiesa La chiesa risale al 1531 E fu realizzata sull'onda emozionale Di un evento importante Che riguardò la città di Trapani E cioè l'arrivo nel 1244 Del simulaco della Madonna di Trapani Lo vediamo nella prossima immagine Ecco qua E che ha dato il nome Praticamente a tutta la vallata Questo eremo Perché si trattava di un eremo Ha ancora una targa Dove c'è scritto Eremus reggia Vuol dire che questo eremo Era reggio Era un eremo importante Questo è il fonte battesimale E poi c'è un armadio di sacristia Che è bellissimo E' eccezionale Questo è il paliotto ad altare Con la Madonna di Trapani Adesso vediamo l'armadio di sacristia Dell'Ottocento In legno intarsiato Veramente bello E poi c'è la parte della cripta Dove sono sepolti Con frati Ma anche gli eremiti Della Madonna di Trapani Bene Andando a questa vallata Andando a visitarla Ci imbattiamo A un certo punto In questo ingresso In questa porta Ed è a questo punto Che do la parola Al nostro videomaker Matteo Arrigo Che è qui accanto a me Alla sinistra Che fa parte dello staff Che la sera Andiamo in onda Con questa trasmissione E lui ha avuto Un'esperienza bellissima Esaltante Qui siamo proprio Nel pieno della Messina Segreta Matteo Insieme a padre Giovanni Lombardo Vi siete addentrati All'interno Avete marcado sta porta Che cosa avete trovato? Ho avuto il piacere Il privilegio Di visitare Questo posto sconosciuto Si parla tanto Ci sono molte città Sotterranee famosissime Napoli Catania stesso Non conoscevo Questo luogo di Messina Questa Messina Sotterranea Addirittura Grazie a padre Giovanni Ho avuto Come ripeto Il piacere Il privilegio Di scoprirlo Perché non ne conoscevo L'esistenza È stata veramente Una bella sorpresa Abbiamo girato un video Insieme a padre Giovanni E non mi aspettavo Di trovare Quello che abbiamo visto sotto Questo è l'ingresso Stiamo vedendo Ovviamente È un po' Non è pulito Non è accessibile Abbiamo avuto un permesso Per poter entrare Quindi non Non è aperto al pubblico C'è un primo cunicolo Fatto in murature In mattoni Poi ci sono diversi cunicoli Che vanno a monte Invece altri Vanno verso sud Cioè verso la città Siamo veramente A due passi Dal centro cittadino E trovare un luogo di questo È stata una sorpresa Veramente grossa Adesso padre Giovanni Nel video Spiega L'origine Di C'è il tipo di ingegneria Che è stato usato Per costruire questo canale E lo sentiamo Ravani A Messina E la parola Canat È di derivazione araba Indica un tipo di ingegneria Di trasporto Delle acque Che è stata inventata 3.000 anni fa Circa In Persia Ma sono stati gli arabi A perfezionarla E probabilmente A portarla anche In Sicilia Si tratta Di Una serie di Gallerie Scavate nella Nuda roccia Che Sviluppandosi Anche per centinaia Di metri Intercettano Le falde acquifere E poi L'acqua viene Ingogliata In un collettore Principale Che va verso Valle La caratteristica Ingegnosa Intanto Che le acque Scorrono Nel sottosuolo Per cui Anche in stagioni Secche Estive L'acqua Non evapora E poi La vendenza Nel pavimento È studiata In modo Ottimale Così che le acque Non scorrono Così velocemente Da erodere la roccia Ma neanche Così lentamente Da favorire L'accumulo Di metri Questa è stata Veramente un'esperienza Emozionante La vivemmo Io e Andrea Bambaci Negli anni 70 Quando entrammo Per la prima volta Anzi alcune foto Del servizio di stasera Sono proprio di Andrea Bambaci Matteo L'emozione Che si è provata Entrando in questo luogo Entrando negli inferi Entrando nel sottosuolo Di Messina Anche questa è Messina segreta Sì sì Ripeto Non mi è aspettato Di trovare un posto del genere A due passi dalla città Praticamente La bellezza Quello che mi ha coperto più di più È stato che Cioè la prima parte Si vede scavata nella roccia E anche ci sono È rivestita di mattoni Poi scendendo Entrando in questi cunicoli Ce ne sono decine In alcune parti Si sono accumulate Le concrezioni Di calcare E sembra di non essere più In un ambiente scavato Ma in una grotta naturale Ci sono parecchie stalattiti E anche il pavimento È completamente ricoperto Da questo calcare Tanto che in alcuni punti Si è addirittura Alzato di parecchio E siamo dovuti andare avanti Camminando quasi accovacciati Poi abbiamo desistito Dal continuare Perché veramente Era diventato troppo basso Il soffitto E c'era tantissima acqua Non si poteva andare più avanti Però sarebbe veramente Da scoprire Ancora di più Da rivalutare Perché è un posto Veramente che Non pensavo Potesse esserci a Messina Veramente una bella scoperta Signori Siamo qui a Messina E non siamo alle grotte di Postumia Questo per dirvi La nostra città Veramente Quante cose importanti Che c'ha Noi non è che ci fermeremo qui Con Messina Sotterranea Con Matteo Arrico Vi faremo vedere Con lo staff Di Caramella Vi faremo vedere Cosa succede Sotto la Fontana Orione In una delle prossime puntate Percorreremo Caro Matteo Se te la senti Se volete Vado di Giovanni Lombardo Benvenga Una galleria Arriveremo a Bordonare A Camaro Stiamo attenti Ci impiegheremo Tanto tempo Passeremo sotto La galleria Della Fontana Orione 1540 E chi lo sa Matteo Se c'è lo zampino Di Francesco La Camiola Che nel 1540 Realizza l'acquedotto A Messina Anche in questo Acquedotto Del Trapani Matteo Un'ultima cosa E questo è veramente Interessante Lei crede che Messina Possa avere Anche uno sviluppo Turistico Restaurando Recuperando Mettendo in sicurezza Questi luoghi E farli visitare Ai turisti Perché questo è anche Il fine Di questo Di questo filmato Di questo momento Di Messina segreta Cioè abbiamo Delle cose interessanti Che in altre città Magari valorizzano E a Messina no Quindi è possibile Fare questo Come ripeto Conosciamo la Napoli Sotterranea La Catania Sotterranea La Palermo Sotterranea Di Messina Non sapevamo Almeno io Personalmente Non sapevo L'esistenza Di questo posto Sicuramente Se è messo in sicurezza Potrebbe portare Indotto di turisti Mettimi Da pensare Una guida Il torrente L'eremo Lì vicino Che potrebbe essere E appunto L'eremo Che interessante L'eremo Non dicevo Non dicevo nemmeno L'esistenza L'esistenza Di quell'eremo A tal proposito Volevo fare Volevo dare un invito C'è l'associazione Camminare per i Lloritani Di padre Giovanni Lombardo E Pasquale D'Andrea Che organizza Trekking urbani Saranno lì Il 19 marzo Per una passeggiata Nei dintorni Il torrente Trapani Si visiterà Anche l'eremo Quindi anche questo È promozione turistica E spero che da queste iniziative Se ne possono Aggiungere Bene Per Messina Se crede è tutto Ringraziamo Il nostro caro Matteo Matteo Arrico Vitomecher E ringraziamo Padre Giovanni Lombardo Alla prossima La città positiva Buonasera E benvenuti Ancora una volta Alla rubrica Amala Questa sera Abbiamo come ospite Un medico Che stimo moltissimo E che si occupa Di medicina In una maniera Molto particolare Marcello Aragona Buonasera Marcello Benvenuto Buonasera Grazie Sono molto felice Che tu abbia accettato Il mio invito Grazie Daniele Non volevi venire Però sono molto felice Che tu sia venuto Perché vorrei che tu Ci raccontassi un po' Della tua esperienza Tu sei medico E lavori in un reparto Di oncologia Sì E raccontaci Tutti i giorni Quindi tu sei a contatto Con la sofferenza Con la malattia E vorrei che tu ci parlassi Un po' Di come si affronta Di cosa può fare venire Anche la malattia Perché non è molto chiaro Sì È un discorso molto complesso Sì Lo so Descriverlo in pochi minuti Qua in televisione È complicato Però cerchiamo di fornire Però cerchiamo di fornire Degli strumenti Che possano dare chiavi Di lettura diverse Certo Più aperte Diciamo che l'essere umano È un organismo Molto complesso Che si compone Di tante parti Di una parte fisica Su cui lavora prevalentemente La medicina Ma anche una parte mentale Su cui lavora psicologia Eccetera Una parte emozionale Di cui si sta cominciando A conoscere meglio Il funzionamento Funziona attraverso Le parti più profonde Del cervello E ha delle funzioni Molto specifiche E poi c'è anche La parte spirituale Che spesso viene sottovalutata Anzi forse Si scindono queste parti Quella spirituale Viene quasi accantonata Sì Si relega soltanto All'aspetto religioso All'aspetto religioso Quando la spiritualità È ben altro Prescinde dalla religione Sì perché è più un'esperienza Certo E infatti si sta cominciando A vedere Dal punto di vista scientifico Attraverso risonanza Magnetica funzionale E altre attrezzature Che l'esperienza spirituale Ha un corrispettivo fisico Ben preciso Quindi in realtà Spiritualità E aspetto fisico E emozionale Corporeo Sono in realtà La stessa cosa Con Su aspetti Completamente differenti Quindi agendo Su una parte Si può agire Anche sull'altra Se si agisce su entrambe le parti Contemporaneamente È molto più Efficace Efficace La cura per esempio E quindi le emozioni per esempio Le emozioni sono Diciamo un trade union Certo Le emozioni Lo stress Sono un trade union Perché agis Funzionano Nella parte più profonda Del cervello Ci sono dei nuclei Specifici nel cervello Che attivati Stimolano Un'emozione specifica E l'emozione serve Per muovere L'organismo Per la realizzazione Dei propri bisogni Quindi ci spingono A qualcosa Quindi se sono emozioni In chiave alta Che ci spingono Verso cose positive Che ci portano Verso la salute Per esempio Realizzeranno più la salute Mentre invece Se sono emozioni In chiave bassa Per esempio La rabbia La rabbia La rabbia è molto utile Perché ci permette Di realizzare i nostri progetti Sì però Però Se non orientata Ai progetti Ma è repressa È nascosta È chiusa dentro O scatenata In situazioni conflittuali Crea soltanto danno Certo Può creare malattie Assolutamente Una rabbia repressa Fa aumentare enormemente La pressione sanguigna Per esempio Oppure Da fastidio al fegato Penso Penso che il fegato Secondo la medicina cinese È l'organo della rabbia Tutte le emozioni negative Quando non vengono utilizzate In modo appropriato Sono dannose Per l'organismo Le emozioni positive In genere no Le emozioni positive Quali sono? Diciamolo così L'emozione positiva La gioia è l'emozione positiva La più importante Nel nostro lavoro in medicina È la fiducia ovviamente La fiducia Certo che è fondamentale È chiaro Che noi medici Dobbiamo creare Questa fiducia Nei nostri pazienti Nei nostri confronti Perché dobbiamo Lavorare insieme Dobbiamo creare Proprio questa relazione Di fiducia fondamentale L'altra settimana Abbiamo avuto ospiti Due medici di Messina Il dottor Casablanca E il dottor Sasciagati E loro hanno parlato Proprio di questo Che è fondamentale A recuperare il rapporto di fiducia Da parte della persona Che non sta bene È chiaro Perché senza la fiducia Non si può andare Da nessuna parte Però ci sono degli strumenti Specifici Specifici Certo Oggi si chiamano Medical Humanities E quindi Che dovrebbero essere insegnati Però sono poco insegnati Ancora nelle nostre università Per esempio Facci un esempio Così le persone possono capire La gestione delle emozioni Per esempio Se io non sono capace Di gestire bene le mie emozioni Non conosco Per esempio Una mia paura Una mia rabbia E l'emozione Passa nella comunicazione A un livello sottostante Rispetto alla parte razionale Certo Quindi se io ho paura La persona di fronte a me Percepirà di più la paura Rispetto a quello che dico Certo A un paziente Che dico Deve fare ancora La chemioterapia E quella persona Sentirà solo La paura Della chemioterapia Ma non capirà Quello che gli dico Certo E quindi questa cosa Non è nemmeno efficace Nello stesso modo Assolutamente Perché questo è importante Certo Quindi io devo trasformare Prima quella paura dentro di me Per restituire fiducia Alla persona Su questo si deve lavorare Perché non è una cosa così semplice Assolutamente Infatti ci sono dei percorsi Di intelligenza emozionale Che insegno io Anche gli studenti di medicina E che sono fondamentali Per imparare a gestire queste cose Perché più è chiara L'emozione dentro di me Nel parlare con il mio paziente Più il paziente si fida Certo Più arriverà quindi Il segnale Il messaggio corretto Perché percepisce L'autenticità del messaggio Quello che avviene Un po' fra gli animali Assolutamente Gli animali quando si incontrano Comunica in maniera Molto chiara fra di loro È chiaro Ma è facile vedere Per esempio un cane O un gatto Capiscono benissimo Le emozioni che abbiamo Nei loro confronti Anche le nostre Certo È chiaro Quindi si avvicinano Si allontanano In funzione delle emozioni Che abbiamo Noi umani Un pochettino L'abbiamo persa Questa capacità Secondo te perché Io questo mi chiedo sempre Perché ci siamo allontanati Dall'istinto Secondo te Perché usiamo troppo La razionalità Assolutamente sì Abbiamo perso un po' Il contatto con noi stessi Con la nostra parte individuale Anche quando parliamo Del dolore per esempio Pensiamo a utilizzare Per esempio i farmaci Nel controllo del dolore Certo Ma il dolore ha anche Altri significati Altri aspetti Altri significati emozionali Altri significati mentali Delle componenti sociali Certo A volte il dolore è utile Per ottenere dei benefici Di altro genere Io vorrei dire E allora Se non comprendiamo Il messaggio Il significato più profondo Del dolore Con tutti i farmaci Che utilizziamo Non otterremo mai Il risultato Un buon risultato Certo Volevo dire un'ultima cosa Che è una cosa importante Secondo me di cui non si parla quasi mai Che nella nostra società Si parla sempre Della vita La vita La vita Ma non si attenziona mai E la morte E la morte invece È una cosa Che tutti dovremmo passare Attraverso la morte Che alla fine è un passaggio Non è altro che questo Cambiare dimensione E bisogna invece Sapere accompagnare le persone In questo passaggio Assolutamente E questa è una cosa Che un po' fai anche tu Io ricordo di averti incontrato Al policlinico Quando mio zio Stava male E ricordo di quanto Ti sei preoccupato Del fatto che fosse pronto Per il passaggio Che è una delle cose Più importanti Amare una persona Vuol dire anche Saperla accompagnare Sia dal punto di vista Del medico Che del familiare Assolutamente L'amore più grande È rendere liberi l'altro Certo La paura Noi viviamo tutta la vita Come se la morte non esistesse E quindi viviamo una vita fasulla Certo In realtà Poi quando entriamo in contatto Con la morte per qualche motivo Rimaniamo sconvolti Esatto E prendere contatto con la morte Non vuol dire Necrofilia O altre cose di questo genere Perché non è questo il concetto Ma prendiamo più consapevolezza Della nostra realtà Esatto Io conducevo dei corsi Proprio per i medici Che si chiamano Affrontare la morte Per migliorare la relazione terapeutica Per imparare a vivere Certo Infatti Ti ringrazio per essere venuto qui E vorrei lasciare Quest'ultimo messaggio Ripeti questa cosa che hai detto Che è bellissima Bisogna imparare Ad affrontare la morte Per imparare a vivere Per imparare a vivere Questa è la cosa più importante Grazie Marcello Grazie a voi Grazie a voi La città positiva Via Garibaldi 80 Messina Seguici anche su Facebook Ed Instagram www.bnoinformatica.it Il condominio Mico È un centro servizi Per amministratori condominiali E garantisce Aspetti professionali Formazione obbligatoria per legge Bilanci revisionati e certificati Organismo di mediazione Per la risoluzione Di controversie condominiali Aspetti gestionali Portale web E applicazione Su telefonini iOS e Android Adempimento e bonus fiscali Call center al servizio dei condomini Aspetti commerciali Oggi cambia il ruolo Da amministratore a manager Convenzioni con i fornitori Pubblicità su facciate Wi-Fi Video sorveglianza E badante condominiale Tutto questo Riduce i costi per i condomini Il condominio Mico Tutte le informazioni Al numero 090 47 69 8 Tutti possono ottenere Il prestito su pegno Non solo i dipendenti Ma anche chi non ha la busta paga Mi piace dire Che il prestito su pegno È un prestito salvagente Perché interviene Laddove esiste Un'esigenza immediata Di liquidità In 10 minuti Vi finanziamo Basta dare in garanzia Oro Argento Gioielli Orologi importanti I gioielli sono tuoi E restano di tua proprietà Li stai solo dando in custodia Vi aspettiamo in ufficio E ricordate Che Fincentrale Finanze a Messina Perché continuare a perdere tempo? Grazie alla collaborazione con PrestaSì Il più grande mediatore in Italia Fincentrale è il tuo unico riferimento a Messina Qualunque sia il tuo profilo finanziario Fincentrale e PrestaSì Hanno il prestito fatto su misura per te A Messina Un solo indirizzo Per l'accessione del quinto dello stipendio O della pensione Fincentrale Chiara Senza sorprese Mediaspot Group produce a Messina Vetrine digitali Maxi schermi a led Insegne e totem digitali Accendi la tua vetrina digitale E inizia ad attirare in maniera più efficace Clienti nel tuo showroom Approfitta della nostra formula noleggio by Grant Che a partire da 105 euro al mese Tutto compreso Non perdere tempo Chiamaci ora e trasforma la tua vetrina In una calamita per nuovi clienti Mediaspot Group Messina DR Broker È il tuo consulente assicurativo di fiducia Una realtà innovativa per consulenza Efficienza di servizio al cliente Professionalità Attraverso una gamma di società e prodotti A tutela della persona Delle famiglie Dei professionisti E delle aziende DR Broker Ti propone le migliori soluzioni assicurative Per tutte le tue esigenze Auto Moto Infortunio RC professionale Casa Vita E perché no Facendoti risparmiare DR Broker Via Ugo Bassi 204 Messina Telefono 090 651 0424 Di service un ت controllo Val M Grazie a tutti Le'uvalo Grazie a tutti Valeri L'altra Messina La città positiva Buonasera, consueto appuntamento con Amarcord Oggi è carnevale, non me ne ho manca accorto Oggi è domenica di carnevale Quindi non possiamo che parlare del carnevale messinese Attenzione che poi martedì è martedì grasso dopo domani E poi lei ceneri, penitenza Perché si è mangiato troppo il martedì Ma stasera noi ne approfittiamo No scusa, volevo dire che io stasera Nino con te non vengo Perché stasera vado insieme a Denton Ma sai perché non ci vieni? Perché non sei con la maschera Siccome sei troppo bella Ci stanno aspettando al Fellini di Piazza Duomo C'è la festa anni 70, anni 80 Una festa di carnevale dell'associazione Centro Storico Vieni anche tu E sbrighiamoci perché ci stanno aspettando Avete ragione Veloce, veloce Partiamo subito con questa maschera antica della nostra città Del 700, questo è Peppe Nappa Ancora oggi si dice Quello è come a Peppe Nappa Eccolo qua, la colpa è sua 700 La maschera di carnevale per eccellenza Questa è bella Questa è la pignolata anni 50 Che bella A forma di re carnevale E questi i nostri maestri pasticceri a Messina Sono molto bravi Per questo Carnevale messinese Felice e canonico Vedete, nel 1959 Guarda Daniela Nel 59 venne Don Marino Barretto Junior E venne pure il mago Zurlini E questo è un bellissimo manifesto di Felice e canonico del carnevale messinese del 59 E' un altro manifesto, lo vediamo nel carnevale messinese Siamo nel 65, annuncio di primavera E festival dei piccoli Beh, dopo aver visto i manifesti non possiamo vedere i carri Qui c'è fin centrale da queste parti Non so se conoscete proprio qui Siamo vicino al catastro Esattamente Guarda un po' Sta passando questo carro Vedete, Messina Era seconda dopo Viareggio Perché negli anni 50 Non c'era il carnevale di Acireale Il più bel carnevale di Sicilia Prima veniva Viareggio e poi veniva Messina Guardate che carri Ma guardate anche i personaggi come sono vestiti Quindi è veramente Curato nei minimi particolari Non si lasciava niente al caso Questo è un altro bellissimo carro Siamo nella via Caribaldi Con questi movimenti Guardate che bello quest'altro Interessante veramente Poi c'erano pure dei cartelli C'erano i personaggi che camminavano a piedi Qui c'era una mascherina In maniera che la persona sotto Quello è l'emporio Vinci? Sì, sì, esatto L'emporio Vinci Come lo riconosco Eh, bravo L'emporio Vinci Guardate che bello Insomma, le via di San Martino Dove si trovava Dall'elefante imbalsamato alla Fino al lago per cucire All'al lago per cucire L'elefante c'era di tutto E questa è via Caribaldi Non siamo a Cireale Siamo a Messina Negli anni 50 Altro carro, eh Eh, ditemi se non erano veramente belli questi carri Particolari Bellissimi E pochi sanno che il carnevale vestinese Lo organizzavano i commercianti Erono solo i commercianti Che provvedevano A pagare le maestranze Che realizzano questi carri Questo è veramente Ma a me è piaciuto sempre Me lo ricordo Ero piccolino Avevo otto anni E il vigile Mi ricordo questo personaggio Questo è il re carnevale Vedi? Eh E questa è la carrozza Ora vedete come era tirato, eh Pure con la carrozza Addirittura Qua siamo davanti al municipio Si riconosce un po' dalle palme Tate i 12.000 Qui un passaggio Sempre in via Caribaldi Eccolo qua Il re carnevale Che divertimento, eh E questo è spettacolare Questa immagine Perché questa è la passeggia da mare Qui c'è il lettuno Qui ancora non c'erano tutti gli alberi E quindi il percorso faceva La via Vittorio Emanuele Poi girava da qui E tornava dalla via Caribaldi Verso Piazza Cairole Guardate quanta gente E soprattutto i carri Erano spettacolari Questa è Cariddi E questo è un passaggio Di uno di questi carri Barpicciotto Non c'è più Chi se lo ricorda All'angolo Dentro il municipio Realizzavano pure questi mini carri Perché allora era un divertimento Di tutti Anche i cittadini partecipavano In maniera veramente massiccia Ecco questo è vestito da carletto Siamo nel cortile interno Del municipio Telescecco Guardate che c'è scritto qua Un oggetto misterioso Se torniamo in via E' curioso Vedete l'oggetto misterioso Con l'appunto interrogato Il vasino da notte Per fare la pipì Vedete divertimento Gioco di passo E vedo domanda Vedo vedo E' una donna nuda Questo con lo scecco No? Telescecco Oppure c'era vedete Questo bel cigno Con questa ragazzina Vestita di carnevale Utilizzavano biciclette Le vespe Le lambrette Le camuffavano All'interno del municipio Siamo nel cortile Guardate questo custode Che sale di questa C'è Pinocchio La condola di Venezia Vedete Era una motocicletta Questo era il carnevale Messinese degli anni 50 Divertimento Assicurato E coinvolgimento Di tutti Siamo sempre all'interno Del cortile C'è l'ufficio tecnico E adesso vediamo La sfilata Questi sono i carri Allegorici Ecco Vedete Questi altri personaggi Divertenti Logicamente la targa Non poteva che essere Se andiamo indietro Tanto siamo in fascia protetta Viva 69 Beh evidente Che la targa Non poteva essere questa Siamo a carnevale Guardate Che persone Che si travestivano Ci si divertiva Ecco I freni libitori In quel momento In senso positiva In senso buono Venivano completamente sciolti Eccoli qua Vedete Era il primo carnevale Della Sicilia Era il primo Sì sì Veniva dopo Via Reggio Perché non c'era Cireale Anni 50 Ancora avanti Disco volante Disco volante La condola di Venezia Qua siamo appunto Nella via Caribaldi E poi c'erano i cari floreali Guardate sempre Questi due vichinghi Oh le nostre corne Hai visto Eccole qua Ecccole qua Ecccole qua Ecccole qua Ecccole qua Ecccole qua Ecccole qua Però c'era pure Tarzan Cara Daniele Vuoi vedere a Tarzan Fammelo vedere Con Jane Queste è Tarzan Queste è Jane E questo è Cica Ah che bello Sono delle persone messinesi Che si vestivano così Vedete come era il carnevale a Messina Non dei piccoli Tutti E' un divertimento E poi i cari floreali Come non parlare dei cari floreali I maestri floricultori Realizzavano questi capolavori Li vediamo dopo l'altro Adesso i bambetti Tutti i mesi qua Anni 50 Guardate che bello quest'altro E poi stanno partendo Perché li facciamo all'interno della fiera Li realizzavano i maestri floricultori Questo è pure eccezionale Policromi Questa specie di drago cinese E questo è Ulla La cassa bellissima di Stoccolma Perché? Perché Ulla Dopo pochi mesi Da questa sfilata Con il caro floreale Morirei in un infidente stradale Dopo pochissimi mesi Bellissima mulla Di Stoccolma Guardate quest'altra bella messinese In mezzo a questi fiori E questo è il carnevale di Messina Non sembrerebbe Ma Messina è stata Anche così E questi personaggi A me mi facevano paura Quando ero piccolo Perché erano seduti sui cavalli Alcuni camminano a piede Poi si abbassavano La testa grande Un altro passaggio Nel Viale San Martino Ecco ancora Cari floreale Questa è una bellissima donna Con i baffi e la barba Guardate che meraviglia Ci si divertiva Veramente In maniera incredibile Il carnevale Era qualcosa di spettacolare Nella nostra città Tutti i cari floreali Coriandoli a terra Vedete Tappeti di coriandoli Anni 50 Ma anche gli anni 60 Poi arrivano pure le macionette Guardate che sono belle queste Il basolato lavico Siamo arrivati fino agli anni 70 L'Irla di Sante è stato l'ultimo Che praticamente ha fatto i carri Dopodiché Non si è perso un po' questa tradizione Ecco questi sono i carri A cui ti riferiti tu Anthony Siamo a Colori già Siamo negli anni 70 Ecco guardate che bello Questo del carnevale E Messina Non è acireale E Messina Non è acireale Non sembrerebbe E questa è una bella immagine Quella che conclude Questo AmarCord di stasera Perché di corso dobbiamo andare Dobbiamo andare alla festa Tu come ti vesti Di DJ Tu come ti vesti alla festa Io mi vesto da Dracula Messina Messina Bene Io vorrei con noi Francesca Per i saluti della puntata Grazie Allora Grazie Nino Principato Grazie Nino Grazie per questo AmarCord Grazie a voi Grazie Francesca In mezzo a noi E annunciamo il tema Il tema della prossima settimana Allora Il tema della prossima settimana Parleremo di cultura Ah il microfono Il microfono Parlo qui Grazie Volevo rubare il microfono di Daniela Allora Tema della prossima settimana Cultura 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 Con i grandi storici messinesi Wow Storici della città Un omaggio a tutti gli storici della città Che ci racconteranno i fasti di ieri Speriamo anche quelli di domani Perché noi agiamo sempre in positivo Quindi noi guardiamo a un domani che sia il più positivo possibile Guai a dimenticarci della memoria di quello che è stata la nostra città Noi lo ricordiamo sempre perché così affrontiamo meglio anche il futuro E così magari abbiamo qualche stimolo in più per essere sempre migliori A vedere queste immagini A vedere queste immagini Bellissime Veramente viene l'acquolina in bocca su quello che offrivano a volte la nostra città Bene Francesca tu vieni alla festa con noi? Certo Andiamo Allora che facciamo? Salutiamo E allora Abbracciamo tutti i nostri telespettatori La quarta puntata termina qui Abbiamo parlato dei condomini Il condominio del futuro Non è scattata la rissa Meno male Certo Mancavano i condoni E' stata una puntata di servizio per i nostri telespettatori Poi abbiamo avuto le nostre rubriche La macchina della verità La macchina della verità Con un consigliere zitto zitto Non parlava mai Eccolo qua Sorbello Sorbello è stato con noi Intervitato da Elisabetta Rasta Raffa Poi abbiamo avuto Amala Nino Principato con Messina Segreta da poco E prima ci ha parlato anche del carnevale Molto interessante E per cui concludiamo questa puntata Andiamo tutti alla festa Allora andiamoci a divertire Questa domenica di carnevale la trascorriamo insieme a tutti i soci dell'associazione Centro Storico Al Fellini di Piazza Duomo Noi ci rivediamo durante la settimana con le pillole Su Tempo Stretto Su RTV Canale 14 E poi su Facebook Sulla nostra pagina Facebook E sulla nostra app L'app Scaricate l'app Ce l'avete? L'app è sempre qui Sempre pronta L'altra messina Crescono le Brava Come dire Gli scaricamenti dell'app Sono cresciuti Siamo a un buon punto Continuate a scaricarla Sia Android che iOS È gratuita Trovate l'altra messina E avete tutti i nostri contenuti Amici Grazie Buonanotte Grazie Buonanotte Alla settimana prossima Andiamo alla festa Ciao grazie Io mi vesto da Contessa Dracula Viva Messina Se mi fidanzo con Principato La tramezzina La tramezzina La città positiva La tramezzina 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 La tramezzina